grazie mille alessandro di essere qui con noi oggi grazie a te davide grazie a voi dell'invito è davvero un onore avere qui alessandro monticelli che è un monaco monaco giovane è già questo sembrerà tanti bizzarro e che ho avuto la fortuna di incontrare grazie a un master che si tiene al politecnico di milano che si intitola spam quindi spiritualità e management che sto frequentando saluto ovviamente i tenutari di questo master che tra l'altro ti dico saranno ospiti anche loro presto qui al bazar atomico e all'interno di questo master c'è stata data la possibilità di svolgere un una degli appuntamenti dentro un posto speciale che è il monastero fu denji giusto lo pronuncio giusto che è in zona fidenza diciamo quindi nel nord italia nell'emilia e penso sia stata la mia esperienza spirituale più immersiva e più d'impatto che abbia mai vissuto in vita mia se guardate su instagram di money surfers ho fatto anche un mini video ed è stato con molto piacere che ho poi invitato alessandro qui perché è stato sicuramente una delle persone più in realtà tutti sono stati molto dialoganti molto aperti però la tua figura era quella che secondo me mediaticamente spaccava di più perché sei una persona che ha detto è perfetto per il bazar atomico e quindi alle grazie e per chi non ti conosce quindi molti come me questo è un podcast underground ti chiedo banalmente come si arriva a diventare monaci così in età giovane in monastero zen abbastanza semplice nel mio caso perché basta che uno dei due genitori sia monaco in quel tempio che sia facilmente l'occasione di diventarlo ovviamente non avrei mai immaginato per 24 anni di fare questo io adesso ne ho 34 e quindi solo dieci anni che sto praticando e ho intrapreso la carriera monastica però è un luogo che poi ho avuto la fortuna di incontrare avevo due mesi forse la prima volta quindi il battesimo in chiesa è stato seguito da un battesimo al tempio buddista quindi poi è una storia molto particolare che non mia solo ma di fudenji quindi sei stato il bambino più giovane a frequentare quel monastero non il più giovane perché poi adesso ce ne sono altri ultimo mio nipotino figlio di mio fratello che è nato da forse due settimane e che quindi è prossimo anche a lui a fare una sorta di battesimo anche al tempio e nel caso di il fudenji è un posto che ha molto come dire preso dalla cultura locale non è molte volte si fanno domande sul buddismo e credo che verrà naturale anche farle magari a me ma è molto difficile rispondere non tanto per le tante scuole buddiste esistenti che se si va in india in cina in tibet in thailandia in giappone poi voi siete persone preparate che viaggiate che ricercate quindi saprete meglio di me tutte le differenze che ci possono essere quindi già il buddismo è una cosa molto in più il caso specifico che è nato a fudenji in quella comune di salso maggiore che poi più vicino a fidenza è tutta una storia particolare quindi sono contento che tu sei venuto ti sei scomodato ti sei scalzato per entrare lì mi sono sentito in dovere all'invito di ricambiare quindi grazie davvero ancora dell'occasione perché è un'occasione di confronto che accetto volentieri io credo che sia un'esperienza che chiunque debba fare perché non si respira un'aria integralista perché magari ci si aspetta sai monastero chissà quale atmosfera sì per dire io l'ho detto anche scherzando nei video che ho fatto c'è gente che fuma sigarette anche la tua mamma che poi ci ha fatto una bellissima lezione durante i due giorni in cui sono stato lì mi ha mi è piaciuto una delle frasi bisogna puntate una delle poche frasi mi sono puntate in quei due giorni è stata la fase di tua mamma che diceva il fumo non fa male il fumo fa male se non sai fumare e si inserisce a parte che c'è anche una canzone dei baustelle che dice questa cosa che la fumare fa male se fumi senza stile quindi una citazione bellissima non credo che sia stata nel tuo caso la citazione ma è un approccio che da fuori uno non si immaginerebbe che è incentrato su questa parola che anche i nostri maestri del del master ci hanno insegnato che è ora gli occhi giusto cioè la giusta misura anche di tutto cioè da anche persino delle cose che la società il perbenismo così siamo anche di modi politica di corretto ci dice che sono sbagliate in realtà uno va al monastero zen sente la badessa che ti dice no ma fumare uno può fumare importante che sappia fumare e questo saper fumare è una metafora bellissima la massima è poi dell'abate emerito che fondò food engine l'84 che non è tanto il fumo che fa male alle persone quanto le persone che possono fare male al fumo quindi addirittura riconoscendo al fumo in questo caso una sua dignità un suo carisma un suo senso di esistere che nella nostra società e in tante società ha avuto un significato molto forte importante cioè adesso come adesso siamo qua microfonati potremmo condividere il sapore di una buona sigaretta piuttosto che di un sigaro è un momento sociale può avere una sua valenza quindi al tempio ad esempio c'è un luogo in cui fumare che aiuta a non fare quella fumata stressata che dici mi prendo una pausa per me che poi sono cose che producono poco invece se devi andare a fumare devi mettere le scarpe scendere le scale anche in caso di neve pioggia arrivare nel luogo che è giù dove si andava anche col freddo anche ti metti lì allora c'è un'intenzione vera di fumare e c'è una già solo il tragitto aiuta è vero beh tutto allora ci sono tante cose che si possono raccontare della permanenza lì però è evidente che la cosa che mi rimasta più dentro appunto la ritualità del tutto che è poi voi siete stati iper disponibili a creare una serie di rituali che non fate mi avete detto che non fate proprio tutti i giorni cioè in onore della nostra presenza è stata fatta proprio una due giorni in cui si sono completati tutti i rituali e io nella mia testa o se chiudo gli occhi la prima cosa che mi salta in testa sono i rituali della sera della mattina e questi suoni di tamburi che come dire intervallano ogni vostro movimento ed è una roba che descrivere la parola è difficile però quando si fa la cena rituale la colazione rituale voi avete dei movimenti quasi robotici no ci si muove quasi come se fosse degli meccanismi di un orologio e poi da un'altra parte in un'altra stanza che però in qualche modo il suono arriva c'è qualcuno che suona dei tamburi e tutto è sincronizzato ed è una roba e nel frattempo si mangia voi date le pietanze insomma c'è tutto un rituale questa cena è una roba lunghissima da vivere da descrivere però veramente l'impatto e quella roba lì è la roba che mi è rimasta più dentro ed è più che meditativa c'è un'esperienza di di concentrazione sul presente dire terapeutica è quasi un po' da new age però veramente veramente metamorfica per una persona cioè assaggiare quella presenza visto che parliamo di cena non può farti tornare poi come prima c'è qualcosa che ti rimane dentro per sempre anche solo frequentando per due giorni il vostro il vostro magico post voi che ad esempio so che tu hai abitudine a meditare ogni tipo di rito in realtà compreso quello del pasto complesso che a cui è partecipato con i tuoi colleghi a una richiesta alla presenza del corpo che quindi è una meditazione che non permette troppe idee che poi possono è molto difficile meditare noi in una comunità come la nostra siamo aiutati perché c'è l'ora e si va tutti e si lavora tutto il giorno quindi poi quando si va la si può anche dormire e crollare dal sonno e uno potrebbe dire non è la meditazione giusta però il senso è di farlo in modo collettivo e respirare come un corpo unico quindi anche per quella cerimonia del pasto non ci sei mai tu che hai il riso e devi servire il riso ma c'è anche quello con le verdure che deve servire le verdure e ci sono le persone che nel vostro caso non sapevano in quale ciotola ricevere uno l'altro e quindi la ritualità del tempio mi sta insegnando che ogni cosa è diversa ogni istante cioè più fai le cose uguali e più ti accorgi di quanto non c'è un istante uguale all'altro secondo me hai avuto un'esperienza per il lavoro che fai anche per la tua ricerca eccetera particolare rispetto a questo perché poi la parola zeno meditazione sono ed è un buon segnale secondo me anche inflazionato in occidente se ne parla tantissimo e nel caso quando si va dove c'è una comunità si è un po salvati perché poi tu siedi e sei in ascolto di quello che è di fianco a te e quindi sedere da soli che è un ottimo esercizio può anche essere meno proficuo per essere liberati e risvegliati da situazioni esterne che si continuano a presentare il problema è la pigrizia cioè io la mia meditazione io pratico la meditazione trascendentale mi invitano sempre tutti i mesi venite a fare ritiro di meditazione e io invece cosa faccio weekend vado a farmi i fatti miei e però quando sono obbligato perché nel vostro caso era obbligato da un corso universitario vado e dico ma porca ma come faccio a dimenticarmi che questo è il top di meditare insieme agli altri poi nel vostro caso è più che meditazione perché c'è una serie di di regole anche da seguire durante la quotidianità il passo non bisogna parlare mentre si cammina la velocità con cui si cammina le curve gli angoli che devi fare per sederti al tuo posto e gli orari assurdi che fate ci siamo svegliati boh a cos'era le quattro le tre non mi ricordo e è tutto l'insieme che ecco una domanda che volevo farti io ci sono arrivato perché era inserito all'interno di un piano di studi ma io credo se magari sbagliando che le persone che si avvicinano di più a voi abbiano un trade union che sia la sofferenza cioè persone che soffrono per qualche motivo me lo confermi o cioè se fosse fossero cento le persone che si avvicinano al nostro monastero come li ripartiresti tra i ricercatori spirituali che per motivi culturali o esoterici o personali vogliono avvicinarsi a un'esperienza intensa come la vostra rispetto a quelle persone che mi ci hanno provato tutto lago puntura il prete e dico andiamo pure a fare monastero zen cioè faccio fatica a rispondere perché non riesco a immaginare una persona che non soffra quindi anche quelli che sembra venire con altre ragioni poi è un luogo come quello in cui vivo che non anche nella sua ritualità nei suoi spazi tu facevi accenni alla prossemica necessaria da conoscere per muoversi all'interno del tempio non è diversa da quella che serve per entrare da quella porta attraversare questa sala splendida con questa cucina vista veramente tutto scelto con gusto e dettagli quindi sono poi l'occasione anche questo quello di entrare e cercare di trovare il passo giusto la distanza giusta la misura giusta quindi nel nostro caso una cosa che mi piace molto dell'immagine dello zen sotto che ci ha dato il maestro decimaro che è il maestro di maestro guareschi che lo zen non è altro che un ritorno alle condizioni normali del corpo e della mente quindi non c'è nessuna sapienza da raggiungere ma è solo togliere il superfluo togliere tutto quello che magari in più ci impedisce di vedere le cose per questo ad esempio a food engine particolare quanto si è messo in valore la cultura locale che i nonni ancora detengono e quindi anche rispetto tematiche sono appuntato adesso cultura no 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 io mi sono appuntato guarda verdi e buddha cioè nella stanza dove abbiamo fatto il corso di taiko poi dopo ne parliamo ma anche tutte le lezioni c'era un quadro di verdi e di fianco al buddha cioè alla stessa altezza verdi il musicista dico e quindi caspita più inseriti così nella cultura locale non ce n'è visto che siete a fidenza in emilia quindi anche rispetto alla tematica che ho sentito trattare tra le sue ottime tipo la globalizzazione o l'idea di uguaglianza pare di c'è il rischio anche e la possibilità di perdere allo stesso tempo delle valori nelle differenze che ci sono tra davide di milano elisabetta calabrese che hanno un valore hanno un valore quindi a food engine senza che si cerca di tenere insieme aspetti apparentemente contradditori si cerca anche di avere cura come ignorare che siamo nel posto dove verdi è nato cresciuto comunque vicino sarebbe soprattutto ad esempio la ricerca iniziale con questo presupposto del del maestro guareschi di creare un luogo buddista che potesse andare nella direzione poi dello zen soto sarebbe si accorse in realtà una cosa successe realmente del le persone che poi arrivavano erano dei gente che rifiutava il cristianesimo o la cultura e come risolvere questo ha iniziato a portare da subito per studiare la teologia buddista dei preti di tradizione cristiana cattolica e quindi il dialogo religioso questi scappavano dai preti avete riproposto i preti esattamente e questo ovviamente è dispiaciuto ai molti perché lo zen comunque arriva cioè lui stesso il maestro guareschi in francia era il 68 a parigi quindi erano soprattutto hippie figli dei fiori che sperimentavano cose diverse dal cambiato un po' mi sa maestro guareschi a livello politico ultimo lui lui sicuramente già lì ho fatto due chiacchiere aveva fatto in tempo a fare amico di sgarbia partito comunista prima cintura nera di judo di parma e carabiniere e quindi quando poi lui incontrò lo zen non aveva minimamente le cose dei suoi dei figli dei fiori era l'opposto era un uomo un ragazzo con tanta determinazione che cercava qualcosa di molto importante per la propria vita e un po' per caso e conoscenze poi perché alla fine si tratta di incontri gli incontri che fai non incontri il buddismo ad esempio mio padre incontrò in un libro la prima e poi incontrò il maestro guareschi grazie a quel libro fuori dal politecnico di milano era l'81 io poi sono nato nell'88 quindi una cosa che non potevo minimamente prevedere non ero al mondo che mio padre che aveva un 59 quindi 22 anni interessato un po' alla filosofia e ai zeppeli sui video di jimmy page e quindi un libro che era la mente mente di principiante il libro famoso per essere quello che ha convertito uso una parola orribile steve jobs allo zen e penso tanti a phil jackson allenatore di michael jordan e kobe bryant allenatore dei lakers dei chicago bulls e dei lakers anche tra l'altro il vostro il vostro campetto è intitolato a kobe bellissimo cioè ecco una cosa bellissima nel vostro monastero che uno non si aspetta è la cura incredibile del dettaglio della qualità di tutto quindi anche questo campetto di calcio è spettacolare il nuovo perfetto cioè c'è una un ordine in cui è banale dirlo è perché zen dice beh te credo se non sono ordinati loro che cazzo però è anche la cioè io invidio tantissimo per esempio quelle finestre che avete a quadratini come dove le trovi adesso devo fare la casa nuova quelle finestre li avete presente finestre con i quadratini di legno piccolini proprio da monastero aspetta la porta che si apre si chiude non scricchio la leggera un dettaglio una cura del dettaglio spettacolare quando ci hai detto mi raccomando queste sono le vostre vostro piumone per sdraiale poi ripiegate tutto in questa maniera ti mette la testa in ordine roba pezzesca tu poi ti occupi del giardino giusto che è una roba impressionante cioè se uno viene a vedere il vostro giardino io quando l'ho visto sono rimasto bocca aperta perché è grosso ed è tutto tenuto con una cura che più zen non si può infatti poi ti ho chiesto ma quante ore dedichi a questo giardino e tu mi hai detto praticamente quasi tutta la mia giornata sì sì questo è l'occasione comunque di trovare c'è sempre qualcosa da fare questo nella nostra nella dottrina zen sotto è importante nel caso di fudenji lo è ancora di più nel senso che poi ad esempio nei tre mesi che ho fatto in giappone in base alle esigenze che ci sono tanti fedeli il tempio in cui sono andato a praticare che è un monastero ha duemila famiglie di fedeli che vanno per fare cerimonie soprattutto funebri o di memoriali di parenti eccetera e quindi ci si concentra di più sulla parte di fare cerimonie e il giardino non è particolarmente grande e non c'è bisogno di stare a lavorare tutto il giorno nel giardino a fudenji c'è questa esigenza quindi noi adesso abbiamo un monaco giapponese che sta facendo il giardiniere da due mesi che secondo me non si immaginava che la pratica assurdo che però non è diverso cioè perché appunto anche nel lavoro si può trovare c'è il ritmo è una liturgia cioè come usi un badile è come porgi un incenso a una persona che magari lo deve far bruciare dritto ci sono la sapienza manuale del corpo è coinvolta tutta completamente non c'è mai il momento in cui la puoi abbandonare non ce n'è bisogno ma non a fudenji penso ovunque cioè la cura con cui è curato questo studio non lo trovo molto molto lontano molto diverso da giovanni visto che complimenti perché è lui che si occupa ma io sono zen no allora i capelli ci sono a parte gli scherzi guarda perché poi la domanda chiave è ma tutto questo quando uno lo vive poi come fa però a portarselo dietro quando torna mettiamo qua a milano nella quotidianità perché è un po quella la sfida no anche avendo vissuto io delle situazioni che cioè a che dici ecco ecco qual è il punto però poi torno non tornare e lì diventa molto difficile e io allestendo questo studio per fare la libreria la dietro di me esatto ecco lì ho un po ricontattato quella cosa lì banalmente chi non abituato ricontattare la manualità il perdersi nel gesto il perdersi nella precisione di non lo so di incastrare bene la colonna con la mensola ecco lì io mi ricordo che tornava a casa che era proprio leggero pulito però è una sfida veramente grande perché uno anche se poi lo vive se lo tocca se l'assaggia quella cosa lì poi però è comunque sia talmente condizionato talmente legato da qui cioè dal resto da cui viene da cui in cui ha vissuto è per una vita intera che ho proprio fa lo switch fa proprio il ma guarda ti ribalto io la domanda lui secondo me sarebbe un monaco perfetto perché ma pazzesco siamo lui ha un intelligenza emotiva pazzesca vi vede nelle nel cuore delle persone più o meno 48 ore prima di me cioè lui già capisce il carattere di una persona molto velocemente e poi vedi che tutti questi lavori quella libreria li fatta tutta mano tagliata tutta per c'è quella popo zen perfetto anche tutta questa sonorizzazione tutto fatto male da solo sarebbe perfetto da voi quindi la domanda vera è non come si fa tornare qua ma come si fa rimanere la cazzo c'è pigliatevelo no 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 infatti mentre ideavo questa domanda stavo dicendo mi sto dando la zappa sui piedi perché poi alessandro me lo porta via stasera non lo vedo più giovanni però la domanda è questa più come si fa tornare qua dopo ne parliamo ma come si fa rimanere lì cioè la rinuncia che non è nel vostro caso non è una rinuncia estrema al mondo esteriore perché io poi so tutto che voi avete attività fate però caspita siete vincolati e soprattutto a una serie di impegni orari incredibili siete dentro nella nell'organizzazione del tempo e quindi non si può fare altro cioè in realtà poi c'è gente che va e viene però vivere full time dentro monastero cioè come si fa a vincere la tentazione di di vedere cosa succede fuori di vivere di più le opportunità esterne io nel mio caso se vuoi ti racconto di un'esperienza che prima di decidere di fare il monaco ho avuto con il mio collega carissimo amico fratello federico verso i 18 anni insomma abbiamo deciso che eravamo due rock star nati cioè noi dovevamo ma avere successo ma non bastava il successo non c'era ancora c'è jim morrison era l'ispirazione sapendo che noi avevamo un di più e siamo partiti per londra con due chitarre sapendo fare giusto qualche accordo forse neanche in barre forse solo siamo partiti per londra con mio padre che invece suona da tutta la vita in modo amatoriale che l'immagine c'è però voi non sapete suonare però pensando che comunque a 18 anni sarebbe stata un'esperienza importante mi accompagnò lui ci accompagnò lui in aeroporto feci sette mesi a londra pensando appunto che all'inizio un sacco di idee che poteva essere il mondo cioè avrei potuto conquistare il mondo in quel perché quando lasci poi ho una storia particolare perché i miei genitori frequentando il tempio io salso maggiore fin da piccolo avevo dei tempi in cui ero da solo faccende domestiche già a 10 11 anni c'erano non i bambini ragazzi di magari di oggi che fanno più fatica ad avere quei in quei momenti per una serie di motivi ovviamente non per colpa loro cioè sapevi badare a te stesso in sostanza sapevo badare a me stesso già da anni e voglio fare una parentesi della parentesi la mia prima fuga a 11 anni quindi era quell'età quando tornai a casa perché ci vennero a prendere poi i carabinieri poi magari tu ricordami invece cosa dovevo dire di altro perché e come si fa a star lì dentro nel maestro dopo 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 come porti quella presenza a 11 anni a 11 anni ci presero i carabinieri ci portarono in caserma perché qualche bambino ci vide fuori da scuola e quindi venne segnalato agli insegnanti che contattarono le famiglie che non sapevano che poi noi non eravamo a scuola eravamo in tre io Federico con cui poi dieci anni dopo andai a Londra e Pasquale e noi tre ci trovarono in carabinieri ci portarono in caserma ci trovò in realtà la mamma di Federico gli diede subito due schiaffoni ma ci portò in caserma perché eravamo stati segnalati che non eravamo a scuola eccetera arrivò la mamma di Pasquale lui la vide dal lontano iniziò a piangere prima schiaffoni e mia mamma mia mamma non arrivò perché era al monastero quindi poi mi lasciarono tornare a casa e io tornai a casa con un po' di preoccupazione la prima volta che comunque hai a che fare con le forze dell'ordine hai 11 anni allora bussai la porta mia prima madre e dissi mamma c'è il maestro e c'era il maestro Guareschi che in quel periodo veniva a pranzare a casa di Colocervia Salsomaggiore e allora diminui il tono della voce e le dissi che non sono andato a scuola oggi mi hanno arrestato e le dissi ah e dove sei andato? e sono andato a Fidenza e ti sei divertito? quindi ho detto sì mi fai fare la firma così domani mi fa meno sì sì va bene lì c'è il pranzo va bene quindi questa era la situazione degli 11 anni poi quindi a scuola non avevi problemi a Londra realizzai quindi cioè che in realtà ero per me stesso con tante idee individuali e non trovai quello che cercavo nel senso che ebbe veramente un disagio un disagio perché non sapevo bene l'inglese quindi il lavoro fu pulire le camere di un hotel l'hotel più grande d'Europa Royal National Hotel prende da Russell Square non so se conoscete un po' a Londra a Houston da Russell Square a Houston c'è un hotel che ha come si chiama? Royal National credo 1500 stanze se non ricordo male e noi avevamo 15 stanze ognuno da fare quotidianamente e se ti dimenticavi ad esempio le saponette nel tuo carrello tu dovevi fare un chilometro per andare a prendere le saponette e tornare e fu una prima lezione zen sulla pratica del corpo perché c'erano delle signore africane sovrappeso che finivano sempre prima di me e io una volta che correvo per fare il letto ad esempio preciso sbirciai e con un gesto il lenzuolo andava sul letto in modo impeccabile e quello per me fu ispirativo e in realtà iniziò a lavorare molto dopo perché poi lì i miei mesi a Londra furono difficili poi tornai a casa e dopo pochi anni di perdizioni senti la chiamata di andare a Fudenji che lì c'era bisogno quindi per me adesso la unica vocazione cioè quella più vera che c'è è quando c'è uno che dice oh Davide c'ho bisogno e sei stato vocato da qualcuno che ti ha chiamato non è un tanto una cosa che dentro di te perché da quando poi io mi sono messo in modo umile a Fudenji perché c'era bisogno lì sì che ho avuto l'occasione di girare il mondo e di conoscere persone incredibili quotidianamente che vengono a Fudenji e iniziare arte performativa tipo i tamburi giapponesi andare a los angeles per imparare e andare a onolulu per imparare i tamburi giapponesi andare in Giappone per la formazione monastica incontrare persone culture anche quest'occasione probabilmente non mi avreste contattato a Londra a pulire le stanze a suonare il giro di do in camera quindi non ti sei pentito ti piace ancora questa vita sì perché non è l'unica vita possibile e nel mio caso ho visto allora quando sono venuto ci avete fatto vedere il video della tua iniziazione io non me lo sono mai dimenticato perché una tale intensità Joe non puoi capire questo uomo che cazzo tira fuori c'è un intensità ma cosa faceva descrivila tu c'è una roba quello non è un'iniziazione nel senso che lì abbiamo già ricevuto i precetti con cui si diventa monaci novizi e a un certo un passaggio intermedio diciamo la carriera monastica nel nostro ordine te la riassumo in tre passaggi l'ordinazione a novizio questa battaglia del dharma e la trasmissione del dharma possono essere tre maestri diversi che ti iniziano che ti danno con cui fai questi tre passaggi io da poco ho ricevuto la trasmissione da mia madre passaggio intermedio è stato la battaglia del dharma con marosa che è l'attuale abate di fudenji e mentre l'ordinazione a novizio me la diede il maestro quindi io ho questi tre maestri ad esempio in quel caso a differenza del primo e del terzo passaggio che sono riservati nel primo si può anche assistere può diventare l'occasione di festa mentre nel terzo c'è ancora in modo segreto diciamo riservato si riceve dal proprio maestro la possibilità ad esempio i poteri sacramentali chiamiamoli così cioè la possibilità di fare un'ordinazione io a una persona che volesse fare il monaco adesso con la terza che hai preso e sarà sancito con la visita in giappone ai due templi che fondano la nostra tradizione in cui si va a rendere omaggio e si ufficia una cerimonia a eheiji e a sojiji che sono i due tempi che fondano l'ordine zensoto quello che avete visto in lingua giapponese no lì la cerimonia si recita al sutra in lingua giapponese ma lo facciamo abitualmente fudenji poi non so ancora esattamente no quando dovrai visitare la ufficiare dovrai ufficiare in giapponese ufficiare intendo un rito in cui non dovrò parlare dovrò muovermi ok dovrò offrire incenso prosternarmi davanti alla statua che rappresenta il fondatore di heiji che risale al 1200 e il fondatore di sojiji che siamo al 1300 credo è molto interessante la storia se hai voglia di riassumerla velocemente dello zensoto qua non ci sono limiti di tempo quindi prenditi il tempo che vuoi è una cosa super interessante e credo che possa essere raccontata bene da te in maniera snella sì continuo a rispondere rispetto alla battaglia del dharma e poi mi laccio va bene no nel senso no no è interessante perché faccio otto domande insieme capito quella dicevo che quel passaggio tre ore per rispondere perché in quel passaggio è interessante la domanda perché quel passaggio intermedio invece è fatto pubblicamente si invitano persone quella che ho visto amici sì quindi quella è una prova di maturità in cui si si viene sfidati nei mondo botta e risposta che in realtà nella se chiedete al ama michelle ad esempio ce n'ha parlato e fatte loro sono molto più focalizzati su quel tipo di pratica rispetto a noi nel senso che nello zensoto si può avere il proprio maestro con cui ogni giorno mondo cioè col maestro guareschi dieci anni in cui l'ho visto lavorare ho avuto occasione di star vicino a lui se mi fa una domanda tipo cosa vai a dire oggi non è mai sufficiente una risposta quelli sono tutti mondo con una persona così non facilita mai la conversazione su un punto da un piano teorico descriviamo il mondo è una domanda che prevede una risposta è una sfida nel nostro caso quando intendiamo mondo intendiamo quelli di quella cerimonia della battaglia del dharma che sono in realtà memorizzati a memoria quindi in realtà è lo studio della presenza e tutti i movimenti che si fanno insieme all'attitudine con cui si risponde in realtà cose che si sono studiate nel nostro caso ad esempio in giappone è simile si sceglie su 50 lo shusō che è la figura di questo monaco che fa la battaglia del dharma che coincide con tre mesi in cui sei il capo cioè tu giovane in quei tre mesi lì devi vedere tutto quello che si muove devi sei il braccio destro dell'abate quindi non è solo la cerimonia e nella cerimonia poi c'è questa sfida questa cosa teatrale domande filosofiche domande filosofiche che poi nel nostro caso sono traduzioni sempre del maestro guareschi e che lui fece ad esempio in giapponese imparando a memoria il giapponese forse anche più difficile nel nostro caso ci sono cose anche profonde che è un'occasione poi di approfondire aspetti della della dottrina che che ci insomma che viviamo quotidianamente ma che poi non abbiamo l'occasione lì non basta leggerli le devi lanciare con una voce che sia vincente non c'è la possibilità di impappinarsi non posso avere qui il significante è molto interessante cioè c'è proprio è un una recitazione a tutto volume è l'impersonificazione proprio di una sorta di eroe che possiamo farlo adesso esatto qual è il primo principio del buddha d'arma prima domanda che facciamo il contrario ti faccio dire mimiamo questo no è quello è il primo che in realtà io la so la corda del violino per suonare deve essere giustamente accordata né troppo dura né troppo molle perché sennò l'armonia fa schifo no però stare l'ho ambientato sì sì sono cose così sono cose così e quindi nello zen sotto perché poi c'era una domanda successiva la storia del zen sotto o volete approfondire sulla battaglia del dharma perché le cose sono collegate nel senso che la ricerca difficile che secondo me ti può ispirare è cosa c'è di vero che è indicibile e dove invece quella verità quella ricerca che puoi avere negli stati meditativi vanno provati a ad essere descritti quindi la parola quanto è importante in una qualunque pratica spirituale religiosa la parola penso che la stessa chiesa non abbia una unica visione ci sono persone che ad esempio le messe in latino dove i fedeli capivano meno a livello teorico avessero comunque un'importanza diversa maggiore o comunque diversa e questo nello zen è continuamente così cioè si è continuamente messi si è continuamente messi davanti a quella situazione e nel nostro caso siamo obbligati a provare a esprimerci qualunque cosa che abbiamo potuto intuire se non serve a nessuno ma poi il migliore esempio è solo osservare magari per me è stato osservare il maestro guareschi lavorare lì ho capito che non sapevo nulla e una delle prime volte mi disse brucia brucia c'è un monaco che fece una casetta che però era tutta in bambù e c'era pericolo che prendesse fuoco e allora lui in modo molto severo mi disse di bruciare la casa non era la casa era il posto dove lavorava e allora io andai con tutti i bambù mentre quest'altro mi guardava con odio ma sapeva che me lo stava dicendo il maestro in persona quindi non potevo dire no poveretto non so cosa volesse provare ma il mio ricordo che fu un momento drammatico in cui presi tutte queste fasce di bambù e le andai a bruciare non avevo lì un pezzo di carta c'era una cosa non era proprio secco che era estate che il bambù fa però insomma poteva essere acceso facilmente obiettivamente quel fuoco e il maestro guareschi fece in tempo ad arrivare che non l'avevo ancora acceso e mi vide con l'accendino perché c'era un po di braccia dal giorno prima mi disse cazzo fai prese il bambù con una con una prima cosa mi spinse e prese il bambù che avevo in mano con la seconda fece vento che produce un fuoco grande e quindi in quel caso ogni tipo di teoria che potevo avere se uno mi chiede perché sei al tempio perché faccio meditazione e perché sto bene perché mi trovai davanti alla mia stupidità e capì che quello era nell'ordine delle cose che volevo fare la numero uno cioè se c'è un fuoco facilmente accendibile accendi il fuoco e tu non puoi quello è un libro nel libro di suzuki c'è proprio la frase che io cito sempre nei miei corsi diventa un fuoco si il fuoco quando lavori noi lo uso spesso per come dire motivare le persone a far connettere la propria vocazione professionale con la propria lavoro quello che gli dà da mangiare e in quel libro lo spiega benissimo c'è solo un modo mentre lo fai devi bruciare bruciare qualsiasi cosa di te non deve rimanere più nulla devi essere totalmente bruciato in quello che faccio vuol dire che non ci deve essere neanche più il pensiero se un tutt'uno sei una è una danza siate capolavori invece che fare capolavori esatto è quella roba lì io ho la fortuna di poterlo vivere quando scrivo cioè io quando scrivo metto lì poi riguardo ma chi è che la scritta io quando riprendo i miei libri dico ma non sono io oppure quando vado in stato di trance sul palco quando devo fare gli eventi quelle cose lì e assaggiare quella quella sensazione poi non vuoi più tornare indietro c'è di tutto il resto ti sembra finto ti sembra un impedimento a la cancellazione del proprio ego mentre si opera in maniera creativa ma non solo creativa alla milanese fricchettone che deve fare per forza l'art director ma anche appunto accendere un fuoco o fare una libreria come quella che ha fatto giovanni e ho sentito anche che nel c'è un podcast vostro si dice così uno dei video che avete registrato in cui ricevete voi le domande dovete rispondere sale tipo sette mesi fa e molte domande sono inerenti alla creazione non molte ma cosa devo fare io della mia vita io ho vent'anni come si fa a essere creativi c'è domande difficili e in effetti il fatto che siamo in una società in cui non c'è così bisogno che tu faccia una cosa cioè è difficile capire di cosa c'è bisogno se una persona non so che negli anni 50 un bambino con il padre che aveva un mestiere preciso che per mantenere l'azienda avrebbe naturalmente insegnato al figlio come si fa in quella in quell'obbligo c'è la possibilità in realtà di spaziare tantissimo poi nella vita perché tu approfondisci un sapere perché c'è bisogno c'è nella cultura zen una delle prime cose che ho a cuore che anche voi sappiate ma probabilmente la sapete già in giappone è perché le persone muoiono e vengono portate al tempio e ci sono decine di migliaia di templi di tradizione zen sotto i monasteri sono 29 ma i templi in cui i fedeli vanno e perché si muore è un'esigenza che ancora nella società ha un senso in occidente molti tutti quelli che si sono messi a fare lo zen il rischio è che l'origine era una cosa individua una ricerca di uno stare bene nessuno te l'ha chiesto di fare lo zen nessuno non serve a nessuno tu che ti interessi allo zen come fare e quindi nel caso di fudenji questa cosa grazie alla visione del maestro guareschi si è da subito diventato importante il defunto noi abbiamo l'altare dei defunti abbiamo i primi morti e capisco che la direzione c'è un tempio esiste perché la gente ha bisogno del tempio non può essere una comunità di persone che si sentono più furbe che stanno lì a fare cose se voi non avete bisogno di venire là non c'è senso che la ci sia e questo è bellissimo quello che dici e capita spesso anche a me di fare questo dare questa risposta contrattuitiva alle persone che mi fanno queste domande cioè ma io come posso capire quello che fa per me trovare il lavoro che mi piace allora io ho letto un sacco di libri che affrontano questa tematica e li ho mischiati poi con le tradizioni mistiche orientali e alla fine c'è un pensiero che naviga in mezzo a tutte le culture fai bene quello che stai facendo adesso non pensare troppo a essere felice con un'ipotesi di futuro che non sai se si verificherà non attaccarti troppo a una fantasma di futuro ma fai da dio sempre meglio quello che c'è bisogno sei d'accordo d'accordissimo quella roba lì apre portali non è che vuol dire essere non so sciuscià tutta la vita pulare a pulire le scarpe no se tu fai da dio in maniera perfetta o più possibile perfetta quella roba lì che ti sta sulle balle che la odi prova a farla sempre meglio si aprono dei portali lì forse entra in capo anche un po' una sensazione un atteggiamento fideistico c'è davvero un po' fede che facendo in maniera eccelsa quella cosa che non vorresti fare qualcosa si apre un'energia si 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 sublima lì forse le persone poi non mi seguono più dicono se vabbè ciao sia anche per non ci crede non ci crede la gente la gente dice no io sono convinto che devo fare come dicono quei libri americani che devo immaginare un futuro in cui io mi faccio i poster in camera dove sono sulla ferrari o comunque sto facendo l'influencer a onolulu e allora io vivo in quel fantasma loro la gente la gente comune pensa questo comunque l'altro aspetto un po' intrigante della faccenda è che cerca di capire dove c'è bisogno di te e agisci ma la miglior produzione carmica umana e non fare niente c'è l'ozio perfetto che possiamo chiamare meditazione contemplazione il momento in cui accetti di non essere mosso da nessun impulso neanche quello di essere utile quell'inutilità c'è nello zen sotto a differenza di altri buddhismi di scuole buddhiste lo stare seduto è proprio perdere tempo cioè che non c'è niente cioè è solo seduto non devi realizzare nulla in altri ad esempio in quella rinzai la scuola zen rinzai il maestro dà dei koan da risolvere come far uscire l'oca dalla bottiglia senza spaccare la bottiglia uccidere l'oca come il suono di una mano sola tagliare il gatto in uno cose che dalla con la logica non non si possono risolvere e durante la sessione di meditazione e l'allievo deve riflettere e poi presentarsi dal maestro e quello ha tutto un suo senso che non conosco e non ho approfondito nel nostro caso il maestro guareschi è un koan continuo ma nella meditazione tu niente shikantasa dal giapponese è solo seduto ecco diglielo a questi due qua che quando siamo andati in vacanza a paros io volevo fare niente e loro dicevano dai c'è da visitare quella spiaggia dai davide c'è da visitare dai dai io stavo a fare certo che venirvi a dire a me che io sono troppo attivo che voglio fare troppo a me di venire questa cosa guarda che ce ne vuole no infatti no io io lì ero esaurito cioè perché per esempio io in realtà ho una vita dove è l'opposto di quello meno male che medito perché se non meditassi probabilmente non sarei in salute adesso e quindi quando cito una un viaggio che abbiamo fatto siamo una vacanza che viaggio con una roba borghesissima una villetta a paros che io ho tutto l'anno quando vado la qualcosa la devo fare esatto andare una nota e non io invidio tantissimo le persone che riescono appunto a ozziare che non vuol dire attenzione andare su netflix come hai detto tu c'è proprio ozziare significa sedersi in un posto comodo e lasciare che il tempo passi pericoloso però infatti quando agisci perché c'è bisogno no cioè di cosa c'è bisogno quello devi fare in ascolto rispetto a cosa c'è e sapendo che comunque qualunque cosa fai lascia degli c'è qualcosa di non va comunque bene cioè non può essere perfetto mai l'agire dell'uomo per quello ad esempio nel nostro caso lo zen è una filosofia no è l'esperienza religiosa che trova tante cose in comunione col cristianesimo con l'esempio di cristo e anche con l'esempio del peccato originale che non deve essere una cosa che spaventa ma una consapevolezza che sei un uomo e non ti devi prendere troppo sul serio hai a disposizione il mondo intero per giocare nel mondo agire nel mondo sapendo che sei un uomo è molto difficile in teoria possiamo dirlo tutti che è una cosa ma nella verità soprattutto secondo me anche nella facilità con cui non si prendono in esame le tradizioni religiose da persone della mia generazione quello che sostituiscono a quel bisogno religioso umano che è uno spirito che c'è da sempre è pericoloso è furviante c'è spesso il motivo vero per cui si soffre tantissimo perché tu ti prendi diventi tu dio di te stesso c'è il mondo a quel punto lì come fai a essere davvero convinto che quello che hai fatto era la cosa perfetta era la cosa giusta ti resterà sempre il dubbio e non sto come dire mettendo in risalto il dogma religioso che ti impone di essere qualcosa di fare qualcosa come meglio di quello uno deve trovare il giusto equilibrio per riconoscersi uomo insieme agli altri e le ispirazioni che uno può trovare nelle tradizioni religiose che hanno una certa storia sono infinite cioè infinite quello che togliendo quelle uno potrò io le trovo nel calcio le trovo nello sport la prima cosa che mi hai detto quando ci hai visto oh ma chi è che gioca a calcio di voi la prima la prima cosa sceso dalla macchina oh c'è qualcuno che gioca a pallone qua ah beh sono in un monastero diverso per me è un'ispirazione incredibile la palla cioè la pelota non si mancia è una citazione di maradona che è entrata nel mio cuore non uscirà più e per me è uno dei personaggi più importanti della storia di gormando maradona e non concordo proprio e molti che esprimono giudizi su di lui non hanno mai approfondito che tipo di uomo fosse bravo in campo ma fuori no è l'opposto cioè io sto scoprendo che è l'opposto esatto c'è sempre l'altro c'è il primo che ha chiamato francesco totti quando totti ha smesso di giocare che per tutti pensavamo la cota c'è cade roma c'è l'italia c'è totti ha smesso di giocare il primo che l'ha chiamato è stato diego armando maradona dall'altra parte del mondo pensando che francesco totti avesse bisogno di un po così di conforto che se lo chiamasse lui poteva essere un motivo di reagire se fosse vivo adesso l'aveva richiamato anche adesso che ha divorziato con la sua magari ilary sa che anche lì lui sa come ci si sente esatto no gran personaggio ma diego rimasto nel cuore veramente delle persone che l'hanno incontrato e beh sì lì dai è sempre lo solito tema della del perbenismo cioè lui aveva una vita dissoluta assolutamente e però come ci siamo detti all'inizio sulle sigarette eccetera non è lì che si misura la cifra dell'uomo guarda pasolini che aveva mille vizi ma certe vette quasi nell'uomo nella sua imperfezione di cui parlavi prima è quasi un lie motive questo un pattern cioè se vuoi raggiungere certe vette a volte ahimè devi pagare d'azio comunque devi mettere in conto come il tau che c'è un lato oscuro altrettanto grande io con la mamma la mamma monaca buddista a differenza di mio fratello maggiore che un po si vergognava per me è sempre stato un vanto cioè mia mamma è monaca buddista lo dice anche quando non me lo chiedevo no ma mia mamma è monaca ciao sono Alessandro mia mamma è monaca esatto esatto e anche con voi i gruppi che arrivano mi devo ancora trattenere nel dirlo quella mia mamma comunque sì è un motivo per me di fierezza e orgoglio tua mamma è una donna pazzesca e per me lo è sempre stata ma rispetto al buddismo io la usavo perché comunque mi era rimasto impresso una cosa cioè che dove c'è il bene c'è anche il male che sono molto più confusi non possono essere separati come il nostro cervello poi vuole fare per poter vivere e allora questa cosa l'ho usata per fare le peggiori cose perché tanto c'era anche un aspetto di bene e quando poi ho avuto il coraggio l'umiltà o ero così disperato che sono andato a fudenji a cercare la mia vita tutto quello che avevo fatto di peggiore sta acquistando un sapore diverso cioè sono molto contento le peggiori cose che ho fatto sono molto contento di averle fatte e nel buddismo una cosa intrigante che il tempio non è solo visto in modo cronologico cioè la legge karmica oggi fai una cosa domani no cioè quello che fai adesso sta cambiando anche il passato quindi quello che è stato è solo una tutte occasioni tutte non c'è mai stato è vero quella cosa lì che non era separato il bene dal male ma io a quell'età utilizzai questo concetto in modo povero rispetto a quello che può significare per tutti quindi quindi è un buon modo anche per non avere sensi di colpa esatto beh però c'è dietro un lavoro pazzesco perché poi nei primi tre precetti nostri sono fare ogni bene a senersi da ogni male e servire gli altri con un cuore puro quindi sembra subito in contraddizione con questa cosa dello zen se non c'è il bene e il male cosa vuol dire astenersi e poi nei precetti nostri è fare fare tutto il bene fare è tutto il bene e no c'è c'è una qualità in tutto quello che fate in quello che dite che è pazzesca io mi ricordo proprio anche la lezione di tua mamma è stata interessante perché ha raccontato la sua vita cioè non ha come dire fatto una lezione teologica come magari ci si potesse aspettare no ha raccontato in maniera incredibilmente trasparente piangendo facendoci piangere tutti quanti la sua vita in effetti quando è finita con la lezione sento di aver avuto degli insegnamenti maggiori rispetto a quelli che avrei potuto avere se avessi sentito dei dogmi oppure delle delle cose più teoriche no la reazione di un essere umano agli accadimenti della vita e alla narrazione di un percorso così denso di dolore e di accettazione di di flessibilità di 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 così di metamorfosi è stato per me un grande insegnamento certo ma ci ha raccontato tutti i problemi che ha avuto nel dover fare la doppia vita mamma e monaca cioè proprio cose semplici cioè robe dice io mio marito voleva che la sera li preparavo la cena ma io non potevo per poi andavo avanti indietro cioè lei ha cerca è stato struggente perché è la storia di una donna occidentale che cerca di come dire completare la sua missione di mamma e di moglie e al contempo dare da mangiare a evidente a una fame spirituale pazzesca che aveva cercando di tenere insieme le due cose e ci ha raccontato proprio che questa cosa l'ha consumata l'ha distrutta ed è stato però non l'ha mai non l'ha mai raccontata come magari oggi con le nuove tendenze no della giusta o meno del me too cioè del fatto che siccome era una donna io non potevo essere libera di fare quello che non c'erano queste tematiche così idealistiche no cioè l'ha raccontato con un senso di accettazione e che mi ha commosso una massima di mia madre che lei è la donna più maschilista del mondo perché sta dalla parte dei più deboli e io la conosco e vi assicuro che è così beh di questi tempi c'ha ragione effettivamente no nel mi sento molto fortunato di avere avuto i genitori che ho avuto e che ho perché la sua poi noi siamo una situazione in cui siamo anche fratello e sorella ma poi lei era diventata la mia maestra quindi poi era diventata mia madre che mi ha messo al mondo come figlio e come monaco e sicuramente lei dice di avere intrapreso questa cosa religiosa per essere la madre migliore possibile è per quello che non è stata una cosa che poteva separare le due cose perché si accorgeva della pigrizia della nostra generazione e lei con tutto l'amore da madre che poteva sentire ad esempio quando eravamo già piccoli prese magari te lo ricordi questo dettaglio nella nella sua storia che prese dei bambini in affido cioè prese dei bambini in affido perché non poteva più mio fratello con un cesario me con un cesario le dissero che non poteva più averne e lei pensò io cosa faccio perché mio padre le chiese di essere madre e moglie perché al tempo poteva potevano permetterselo e quindi mia madre dopo aver avuto me lei voleva fare l'avvocato per i minori non l'avvocato come si chiamano sì la tipo l'assistente sociale ha studiato giurisprudenza laureata e quello si immaginava la sua che fosse e si trovò a dover fare la madre la moglie e però riuscì a fare qualcosa inerente alle sue interesse e quindi prese dei bambini in affido non per toglierli dalle famiglie ma per il contrario esatto cioè perché questi bambini restassero in casa quindi facevano la giornata con noi vivevano bene gli compravamo le cose e poi li riportava a casa la sera se non che andavamo a casa loro a casa loro a Courmayeur le ha concesso le ha fatto fare una la mia stessa infanzia l'hanno fatta questi altri bambini prima erano due poi sono diventati quattro e questa cosa diciamo a mio padre si trovava a casa tornato dal lavoro pulmino di bambini perché poi organizzava cose che riguardasse altre famiglie eccetera già parliamo degli anni 90 eravamo qua nella provincia di Milano Magenta e c'erano già degli apparenti situazioni che potevano creare delle scomodità e un'altra grande massima di mia madre che mi porto nel cuore quando c'è una scomodità va bene perché se no il signore te ne manda altre e questa cosa c'è un dice una monaca buddista dice una cosa così non va neanche di dire cristiana si una cosa che è però c'è tanta sapienza e tanta saggezza in questo perché la conosco il modo con cui può dire una cosa del genere è un modo che può essere nello zen semplicemente di stare di fronte alla difficoltà e di accettarla e la capacità di rendersi flessibili siamo continuamente davanti a delle cose difficili da gestire quotidianamente cioè non perché c'è la guerra non perché c'è la pandemia ma prima di quello quando ti svegli al mattino e ti devi affrontare una giornata cosa come ti lavi la faccia come ti e rispetto alla scuola zen una cosa che secondo me è un distillato di sapienza che non basta neanche nel monastero più più severo del giappone forse è davvero interpretata come il fondatore la la intravide cioè la ritualizzazione di ogni gesto da quando ti svegli reciti delle strofe perché col tuo risveglio tutti gli esseri si risvegliano pieghi il letto vai in bagno togliendo le ciabatte ti inchini e come tu evacui tutti gli esseri possono evacuare ira brama ignoranza prendi lo spazzolino metti il dentifricio reciti come il mio pulire i denti possano tutti gli esseri ripulirsi ci sono strofe che si recitano e poi uno lo fa per un periodo poi magari hai la testa su altro ma quella è una è la soluzione cioè quella è una possibilità molto elevata perché tutto quello che facciamo è molto non molto totalmente intersecato con tutto il resto è difficilissimo comprenderlo nella teoria è una cosa che è il corpo che la impara facendo ogni gesto e allora una volta la prima volta che andai col maestro guareschi da mcdonald credo fosse anche l'ultima tornati da una conferenza era vestito in modo più formale di come sono io oggi e anch'io che lo accompagnavo e c'era anche un altro monaco eravamo tre e ero un po imbarazzato perché poi io a fidenza sono cresciuto eravamo al mcdonald di fidenza quelli che dicevano andato a fare il monaco alessandro eravamo al mcdonald a mangiare un panino bello un'immagine bellissima immagine bellissima tre monaci zen al mcdonald mangia mangiò in silenzio e poi chiuse con cura i pezzi di carta che quindi contenevano il panino e le patatine e il bicchiere e la tovaglietta il vassoio lo rimise perfettamente pulito e mi diede quelli dicendo questi ci servono accendere il fuoco domani quindi era già sul pezzo del lavoro del giorno dopo andando da mcdonald e per me quello è lo zen che ho incontrato cioè quella cosa lì poi mia madre è stato un personaggio e lo è tuttora che non sarebbe possibile tutto questo perché ci ha messo la vita c'è stato coraggio da parte sua però poi quello che mi ha sedotto è stata quella roba lì che il mcdonald andava benissimo se al posto che buttare la carta sarebbe servito per accendere mi viene in mente no siamo in una fase critica no dell'umanità del clima vedi qui c'è la soluzione di tutto cioè cosa bisogna fare per salvare il mondo la nazione bisogna salvare se stessi partire da se stessi e curare le piccole cose in questo modo come dire si informa sia a livello diciamo energetico ma anche a livello pratico poi tutto il contesto in quello che hai detto volendo c'è anche un'ottimizzazione energetica volendo comunque penso che l'unica soluzione su quelle tematiche si era davvero guardare quello che facciamo noi cioè nel senso chi studia io sono stato al monastero quindi lo so cioè non è che l'acqua deve continuamente scorrere dal rubinetto e no tu devi sapere prima l'acqua che utilizzerai per tutte le tue pratiche di pulizia simone di versi in una in una ciotola la stessa tino ti lavi e poi la stessa acqua che poi usi per quell'altro e poi la rovesci c'è ma non si può tenere aperto il rubinetto devi sapere prima quello che usi e quello di uso io ho tutta una serie di dettami in cucina che si chiamano protocollo piccaluga di ottimizzazione piccaluga che permette di fare il lavoro in cucina di pulizia dei piatti con il meno sforzo possibile ma arrivando al risultato migliore proprio creato tutta una serie di dettami vuoi sapere l'esempio quando abitavamo insieme io la mia ex e te lui si finivamo di mangiare e poi sai che si impilano i piatti mai impilare i piatti così li devi lavare anche sotto ci metti il doppio del tempo il doppio dell'acqua capito e la next diceva minchia sotto non si scorda tristezza e invece vedi è zento il mese scorso io cucinavo il riso lui mi ha tolto l'acqua perché ce n'era troppo il mio riso è diventato tutto scotto che il protocollo piccaluga non prevede che fanno un riso per mezz'ora c'è no comunque sì però secondo me la cosa molto importante è proprio questo riguardo l'acqua e anche gli sprechi però non bisogna partire da un'ideologia da un devo risparmiare acqua certo il segreto sta proprio nel rituale che fai per te stesso ma il piacere è il piacere di accorgerti che ti basta poca acqua per lavare i denti e lavarti il viso meno di quella di un gioco no è quasi una sfida è un gusto poi cioè dopo ti senti che c'è qualcosa di ma per tutte le cose cioè abbiamo non c'entra il monastero zen secondo me perché io mio padre che non vive al monastero zen anche se poi fu lui a a iniziare poi questa vicenda lui costrinse mia madre a andare al tempio zen lo costrinse e lei non ne voleva minimamente sapere e per perse una scommessa con lui per cui si trovo perché il primo anno che mio padre iniziò a frequentare il il tempio mia madre lo aspettava in macchina cioè era lei era lui lui andava lei lei non ne voleva sapere perché poi tua mamma è successa quella cosa del professore che lei adorava più di tutti all'università cattolica di milano e poi venne a sapere che questo professore era anche lui nello stesso monastero di tuo marito ci fu anche questa scoperta che sicuramente decise la partita e quindi lei poi iniziò a frequentare in modo più assiduo di mio di mio padre per cui poi si trovò lei a diventare monaca e non lui che però come dicevo a una naturale attitudine del monaco cioè lui a differenza di suo fratello ad esempio che è sempre impeccabile è più facile che cioè mio padre in bagno sembra un ninja e lo dico perché mia nonna era ancora una di quelle signore che rispetto alla casa e le pattine e il bagno cioè aveva una cura maniacale che per me vuol dire cura sana di una casa che era una sapienza tutta femminile anche se forse oggi non si può dire non lo so si può dire una sapienza femminile del tenere la casa e l'economia anche della famiglia eccetera e basta che lo usi al passato adesso non è più non è anche perché non è più così io vado a casa di donne per vari motivi infatti perché non è più trasmesso guarda che secondo te lui è monaco zen lui fa le foto alle donne nude si può fare mi sembra se le fai bene assolutamente se le fai vedere dopo con estrema cura no esatto e quindi mio padre ad esempio nel bagno di mia nonna sempre detto di mio padre che magari era più trasandato nel vestire che però era cioè lui andava in bagno sembrava che non ci fosse stato e quello per me è un continuo insegnamento esempio perché poi non basta andare nel monastero per capirle queste cose perché io per primo quanti giorni per stanchezza pigrizia non sono attento e sporco aprendo l'acqua piuttosto che consumo acqua piuttosto che qualunque altra cosa che si può fare perché poi cosa succede che quando c'è luogo da mantenere è quello che ti parla tu puoi benissimo avere cose importanti nella testa però inizi a sviluppare i sensi più delle idee quindi tu senti gli odori e senti i rumori e tutti una persona arriva al tempio è un disturbo cioè voi siete stati un grandissimo disturbo soprattutto io soprattutto tu e diventa una grandissima occasione perché come tu lo accogli questo disturbo che non può che essere un disturbo come lo accogli quale che registro utilizzi e tutto quello che c'è nel tempio non sei tu non sei più tu è il luogo cioè io sono veramente un livello culturale basso idee creative poche mi piace fare sport e forse lì riesco bene quello che è la mia più ricche la ricchezza più grande che ho è che sono lì quindi anche non c'è bisogno di essere intelligenti perché tu sei nel posto che riceve persone che va pulito va tenuto in ordine se c'è una perdita va riparato se piove molto c'è da assicurare le canaline e quella cosa lì ti salva e ti libera e da quella cosa lì ci sta poi tutto il resto ma la grande fortuna che sento per cui trovo nella vivere comunitario la soluzione a tantissime problemi cioè io mi immagino che nel futuro aumenteranno le persone che decideranno di darsi delle regole comuni e condividerle e condividere insieme la difficoltà del vivere insieme perché poi uno si immagina che al monastero buddista andiamo tutti d'accordo perché la pace io ho convissuto con loro due insieme la convivenza è già non eravamo proprio zen però nel senso che ho vissuto di molto peggio io ho avuto delle convivenze veramente che per me ma anche per loro magari è no dai noi noi molto lisci infatti secondo me io pensavo saremmo andati molto meno d'accordo quando poi siamo andati abitare insieme prima poi invece dopo è stato easy sì allora il quello che hai detto secondo me è interessante c'è tu non so se hai questa percezione che vuoi per esigenze pratiche perché la gente ad esempio a milano per mettersi una casa da soli è quasi impossibile devi essere un mega manager e tante persone anche della mia età convivono certo con altri cosa che non era mai accaduta prima quindi un ritorno ad una ad un'attenzione maggiore della convivenza nell'altro si riscoprerà che la convivenza più eccellente che ci sia è il modello della famiglia con un padre una madre e i figli io credo in questo ma so che oggi non si può dire ma al baser atomico sì quindi lo dico io sono d'accordo cioè per me il modello era già stato ricercato modello tradizionale era già sì perché poi tradizionale da quando non non è che ci precede ogni tipo di costruzione di tutte le società che sono state poi che sono cadute cioè quali sono i tratti comuni che hanno garantito il progresso e hanno continuato comunque al di là del dei gusti dei momenti cioè il rischio di continuare a dare importanza al tu puoi dare importanza a tutto quello che senti ma concretamente stai disturbando lui cioè ce lo chiediamo quanto stiamo quanto il maestro goreschi dice lo zain è la via dei non rompi coglioni e per me anche questo è lì la faccia voglio voglio capire come non rompere i coglioni e vi assicuro che non è food engine che ti può aiutare cioè tu io sono ogni giorno con un esame di coscienza un rompi coglioni e la mia ricerca la mia aspirazione è come come non esserlo forse impossibile ma come esserlo meno uno si può fare tantissime domande ma perché perché devi per forza in realtà la gente pensa che gli altri rompano i coglioni a se stessa esatto ma guarda quello è sempre uno sguardo verso il pro tipo il classico è che traffico che c'è oggi fai la foto nel traffico lo stai facendo tu ma io per arrivando all'estremo arrivando all'estremo di questo io sono il grande difensore dei peggiori personaggi esistenti nella storia i peggiori i peggiori cioè io non faccio nomi ma voi immaginate un esso difendo lui e tutti i peggiori di lui tutti i peggiori perché li riconosco nello stato umano connessi con tante altre cose in cui non si può valutare il singolo non sto facendo un discorso sulla de responsabilizzazione delle persone adulte per cui io ti uccido perché ho avuto un'infanzia difficile è tutto un altro discorso cioè quando tu entri nel merito in modo critico dell'altra esistenza tu mi devi dimostrare che puoi parlare di quell'esistenza e dato che al 99,9 per cento tu non puoi parlare della tua tu che parli di Silvio è molto un azzardo ma più di un azzardo perché tu cosa fai quando ti svegli? a che ora ti svegli? lui? iniziamo a fare un paragone Silvio dorme tre ore a notte ma Silvio intendi Silvio Silvio? io ho detto Silvio potrebbe essere mio fratello non ne abbiamo altri in Italia sostanzialmente ho detto Silvio ma potevo dire veramente qualunque altro nome per me è troppo facile e non mi è mai piaciuta i riassunti che a scuola mi facevano sulla storia cioè anche sulle tragedie che fossero identificati in un nome dicevo ma come che uomo? cioè c'è Dio e c'è lui esatto che possono da solo fare questo quindi merita la stima se è lui ma probabilmente se si va a indagare un po' non è mai l'uomo da solo sono situazioni in Giappone nella scuola Zen quando sono andato in Giappone ho scoperto cose molto interessanti perché c'era un convegno sui diritti umani dove c'erano tre sodo, tre monasteri di formazione sui 29 che si trovavano per discutere dei diritti umani perché anche oggi il Giappone sta cambiando sta ricevendo dall'Occidente cioè ci sono le stesse tipi di problematiche nella società e quindi nel monastero c'è il bullismo il problema del bullismo e tra le materie, tra i temi toccati non c'era solo il bullismo ma c'era anche i brutti nomi che venivano dati dal prete Zen a un morente di una casta bassa questo è il buddismo, è stato anche questo e si chiedeva e se ne parlava quindi i gruppi, noi ero nel gruppo degli stranieri e ovviamente l'americano era scioccato perché era andato al monastero in Giappone pensando che Buddha, pace, amore com'è che il rappresentante di Buddha in un funerale lo chiama sacco di letame che non deve mai rinascere com'è che questi caratteri, questi ideogrammi hanno questo significato e ci sono delle persone che hanno ci sono ancora delle pietre e ovviamente c'è tutta l'associazione per i diritti umani eccetera che sta andando in ricerca di tutti questi segni e li sta andando a modificare perché comunque stanno modificando Dumbo e Peter Pan e gli Aristogatti perché ho scoperto anche questo pochi giorni fa e quindi stanno cambiando anche e quindi cambiamo anche e questa cosa ad esempio quando mi fu chiesto cosa pensassi e lì erano domande come dire indirizzate cioè non indirizzate però chi è che può dire no mi sembra una bella cosa quindi tutti poi si trovavano a dire la stessa cosa io ho tenuto a distinguermi a dire innanzitutto che ero italiano e che quindi nel mio paese sia la mafia e l'omertà e quindi che di certe cose è meglio non parlare e dicendo questo in modo un po' provocatorio in realtà ho detto cose che penso cioè chi sono io per entrare nel merito del Giappone del 1600 e dire è sbagliato cioè probabilmente chi lo faceva si è trovato davanti anche a dei momenti di sofferenza incredibile cosa ne so io della situazione del 1600 che vivevano quelle persone ed è molto facile mi accorgo ma io non frequento troppo il web così lo dovrei fare di più però vedo la capacità di sintetizzare cose molto complesse a una velocità incredibile e quando ho visto il Bazar Atomico ho detto che bello perché qui senza peli sulla lingua invitate persone che magari non conoscete tipo me oggi e accettate un confronto onesto ma che diventa anche politicamente non corretto c'è una verità che poi volete perché si vede che siete persone in ricerca cioè voi state cercando qualcosa non è che lo fate perché questa cosa vi farà guadagnare o varrà vista immagino immagino perché oggi stiamo perdendo un pomeriggio qua vi ringrazio dell'occasione un modo diverso di ozziare non siamo noi che ringraziamo te forse tu lo stai perdendo no è una grande occasione per me provare a parlare perché nella formazione anche nostra deve esserci questo momento di confronto e quando le persone vengono al tempio è facile nel senso che vedono il posto e non hai bisogno di sei tu stesso influenzato dal posto infatti vederti in trasferta è strano per me è molto impegnativo e quindi è una sconfitta che comunque mi dà nel senso che siete persone culturalmente molto preparate anche se sembrate sembrate lo siete ogni qui e qui e su ognuno ha i suoi settori in tre facciamo una persona esatto la cosa che hai detto prima sui monaci è interessante la stessa cosa io l'ho vissuta quando sono stato alla Darm Shala dove sta il Dalai Lama e osservando i monaci innanzitutto ho visto questa cosa dei Mondo che tutto il tempo ho tre immagini non c'entra niente con lo zen però adesso ti spiego arriviamo anche a quel discorso che facevi adesso su il perbenismo occidentale che vuole permeare addirittura tradizioni secolari sono tre la prima io arrivo e c'era questa due schiera doppia schiera di monaci perfettamente sincronizzati allineati con la geometria e con l'architettura del tempio che meditavano loro meditano facendo un suono c'è una roba proprio un rumore bianco quindi non è proprio come la vostra e la mia che si sta a zitti e quindi c'è sto suono ti giuro era una roba tipo non so i Chemical Brothers cioè una roba di house techno è tipo trans music una roba meravigliosa però la producevano creando questo effetto Larsen quindi feedback che si creava tra l'eco delle voci di questi monaci che rimbombava in questo meraviglioso cortile a 2500 metri sull'Himalaya in mezzo un cane in mezzo c'era un cane stecchito morto in mezzo io dicevo cazzo come è morto quel cane lì stanno facendo una sorta di rituale funerario per il cane e io ero lì ipnotizzato perché poi quei suoni lì ipnotizzano cioè non è che puoi andare lì e continuare no dici no voglio viverla questa cosa 10 minuti e poi e fanno proprio un grido alla fine e il cane che si sveglia scappa spaventato questa è una delle immagini bellissime che ho perché poi alla fine esultano dopo la meditazione bellissimo la seconda è sono questi mondo dove sembra che si insultino tu non hai capito un gazzio io mi immagino tu non hai capito un gazzio no il buddha voleva dire questo no ma sei tu che sei ignorante e si sfidano verbalmente recitando poi come dici tu a volte anche no ma lì sono proprio delle speculazioni filosofiche poi mi sono fatto spiegare la terza è i rolex che hanno al braccio questi monaci cioè il mio fa impallidire i rolex dei monaci tibetani e sono tornato all'epoca era un po' più come dire tendente alla critica no quindi dicevo ma guarda questi monaci raga alla fine c'hanno tutti il rolex se ormai vivono si fanno dare un botto di donazioni si comprano rolex però poi anche col tempo ho capito che anch'io avevo uno sguardo corrotto ero io che ero corrotto giudicandoli piuttosto che loro avendo rolex alla fine se guardi le foto di dalelama lui ha sempre un rolex e quando e dall'altra parte c'ha il ma come si chiama il ma quello con i braccialetti che c'è anche Gianluca Vacchi insomma quelli che vanno di moda adesso buddhisti e il dalelama quando dicono ma lei c'ha il rolex eh certo me l'hanno regalato io lo metto è bellissimo è un oggetto stupendo e lo trovo affascinante mi piace indossarlo mi serve per vedere l'ora e guardando i polsi del dalelama vedendo da una parte il rolex dall'altra parte il braccialetto tradizionale la trovo un'opera d'arte in sé questa immagine c'è la l'unione fra due parti dell'uomo quindi la parte più materiale è la parte più spirituale che devono convivere parallele e sono parte della nostra sono due mani separate ma che tutte e due devono lavorare della stessa maniera per noi ad esempio il dalelama in particolare non ha che vedere nella nostra scuola buddista ma rispetto a questo ti trovo mi trovo d'accordo con la tua analisi finale ad esempio abbiamo anche nelle chiese un bel esempio di cioè i soldi la bellezza la ricchezza possono essere segni dello spirito e non penso che andrebbero buttate giù le chiese perché sono state fatte con i soldi che la chiesa ma penso che siano una delle cose più belle che nel nostro paese si possa ammirare e non so quante chiese ci siano tra l'altro nel nostro paese perché a Napoli ho scoperto che forse è la città con più chiese d'Europa una cosa del genere io sono andato a Napoli cercando i quartieri spagnoli le immagini di Maradona e ho scoperto che Napoli è la città con più chiese d'Europa in Italia 100.000 ora vediamo a Napoli se hai sete c'è l'acqua lirale eh no sì un migliaio non è molto preciso sai il luogo dove ho visto più chiese per abitante a Gozzo ti ricordi l'isola che c'è di fianco a Malta non ci sono abitanti quasi ma tu vedi perché io credo che lì sia un tema di avamposto cristiano versus il mondo islamico quindi hanno detto mica noi ci mettiamo un botto di chiese grosse che devono capire che qua siamo cristiani sì oppure che fai a Gozzo cioè vai in chiesa chiese meravigliose sei mai stato in Malta a Gozzo no queste chiese che si vedono già dall'aereo quando arrivi c'è la Madonna noi stiamo cercando di edificare una pagoda il costo più o meno sarà 3 milioni di euro quindi mi aspetto già col gruzzoletto che oggi ritirerò per essere venuto qui ma noi solo pagamenti digitali facciamo e anche lì il tempio è 6 ettari sono 60.000 metri e in quel caso è molto umile nel senso che ci sono dei tempi dove la sala delle cerimonie è tutta d'oro o cose simili a quello magari di alcune chiese che poi il tuo maestro ha fatto un plastico cioè una riproduzione in scala tutta fatta a mano in legno di come vorrebbe fosse edificata la pagoda sì perché in quel caso poi c'è tutta la problematica è molto interessante dal punto di vista architettonico secondo me visitare Fudengi perché il maestro Guareschi è riuscito a venire un gusto architettonico romanico con i mattoni a vista a queste finestre di cui parlava lui con anche l'inclinazione che dà l'idea della salita e della discesa che ci deve essere all'interno di un monastero tradizionale e la pagoda sarebbero sette edifici l'insieme del chiostro monastico secondo non penso che la tradizione zenzia l'unica che prevede questo schema sono sette sale principali e dall'alto è come un uomo seduto in meditazione quindi prima che ci fossero i droni il modo migliore di apprezzarlo comunque è il cielo è fatto per il cielo c'è l'entrata centrale il ventre il cuore la testa e poi si ha gomito e ginocchio destro gomito e ginocchio sinistro e Fudengi in realtà è solo là la destra cioè Fudengi è grande ha visitato le sale però andando dall'alto una particolarità è che il maestro Guareschi ha iniziato con le idee molto chiare su costruire queste sale comunicanti tra loro negli spazi giusti tanti grandi centri e templi zen in occidente sono riadattamenti di altri luoghi ex conventi ex scuole comunque dove ci si è dovuti arrangiare il maestro Guareschi da zero ha iniziato calcolando già e ci sono delle zone ancora fatte negli anni ottante che hanno i tubi innocenti perché non le ha volute finire per poter fare più scheletro possibile di tutto quello che doveva essere e la pagoda sarà l'edificio principale alta 13 metri larga 17 col tetto tutto in legno che localmente non si conosce come realizzare quindi lui è andato a studiare nei dettagli questi ordini di travature curve tutte a incastro senza viti chiodi bulloni che Joe vai tu a fare questo lavoro no ma è una roba cioè se tu vai a vedere ma secondo me già quel modellino è una cosa commovente perché giustamente mi ricordo che lo raccontavo fa nessuno qua sa farla questa roba perché non fa parte della nostra tradizione fare una pagoda vera non come quelle di Gardaland cioè di plastica cioè fatta di poi prevede tutta una bordatura in ferro per poi avere tutti i mattoni a vista quindi non è neanche una copiatura di una tipo non esiste penso è un ibrido quindi sì molto ma poi ho visto che lì al tempo però cioè ci sono anche proprio delle villette normali io dormivo proprio nella sala dove facevamo le lezioni eccetera però qualcun altro proprio dormiva in normali villette dove le persone possono venire stare giusto? sì sono state realizzate qualche anno fa queste casette sono nove unità abitative per adesso che abbiamo e offrono comfort maggiori rispetto a quello che è stato poi la situazione per 30 anni in cui a Fudenji chiunque venisse doveva poi dormire per terra che si intende sulla materassina luoghi comunque puliti eccetera ma con il letto che poi doveva scomparire durante il giorno la sveglia comunque alle 4 e mezzo a 4 e 50 in base alle stagioni e ovviamente precludevano anche la possibilità di accogliere persone visitatori anche magari di una certa età o anche che passavano di lì o ospiti di riguardo a cui non si chiedeva di partecipare al programma monastico io stesso ad oggi vivo in una di quelle casette mia madre con mia nonna in un'altra il presidente dell'istituto vive in un'altra di quelle e la parte alta di queste unità è abitata poi da noi perché comunque al tempio non ci sono stanze quindi il training monastico che come dicevo rispetto a Fudenji non copia nessun modello giapponese è la storia di quelli che sono lì che lo sta facendo non ha tante stanze ancora e uno delle sette sale che è ancora vedificata che quindi l'ala di sinistra dove ci sarà la cucina ci saranno anche degli alloggi però per adesso ci sono tipo tre quattro stanze là dove sono occupate dall'abate merito abate c'è Barbara che è una monaca che ha adesso malata di Parkinson quindi è seguita in una di quelle stanze e c'è una stanzetta dove c'è degli uomini diciamo e poi c'è un dormitorio uomini e un dormitorio donne di persone che vengono per fare l'esperienza l'interno in realtà della sala di meditazione nella nostra scuola è fatta per dormirci anche però lì siamo verso cioè è un monaco che ha ordinato abbiamo adesso un ragazzo Giovanni che ha fatto l'ordinazione l'altro ieri che dorme nel sodo nella sala dove si fa meditazione che voi l'avete fatta in una sala ah non è quella dove eravamo morire quello iniziale poi è stato edificato perché all'inizio si è stata presa questa casetta con un grande parco cioè parco era tutto non c'erano piante era non curato non mi viene il termine il corte sì e questa in questa casa colonica c'era stato messo tutto lì la sala delle cerimonie la sala di meditazione i bagni la cucina la sala dove si mangia e poi piano piano si sta creando la sala giusta cioè la sala nel posto giusto quindi questa casetta poi in realtà rimarrà all'interno del chiostro però quello che adesso è la sala delle cerimonie è ancora all'interno di quella casetta è molto piccola diventerà magari la sala del fondatore piuttosto che altre sale particolari sì mi piace questa prospettiva di crescita che si respira proprio quando si è lì cioè anche il tuo maestro ci tenne proprio a dire ma qua siamo solo all'inizio eccetera una cosa che volevo chiederti tu sei stato in Giappone giusto quante volte tre bastonate sulla schiena le hai mai prese le ho preso in Italia no ma le bastonate no sai quando che ci avete fatto ah no tu non c'hai ci hai fatto vedere il video di che c'è comunque tu sei passato dietro la mia schiena con un bastone poi non mi hai bastonato però puoi farlo ora se vuoi non tutti sanno che è una cosa che mi fa piacere avere l'occasione di dire perché persone come Davide vengono ci sono dei gruppi che sono venuti che sono portati da una persona amica che ha frequentato Fudenji agli inizi e che ovviamente come tutte le persone che hanno un'esperienza forte e rimangono in contatto ha avuto la bella idea di portare gruppi di manager e gruppi di studenti e di venire con loro perché vivessero e ovviamente nella sua preparazione al luogo diventa poi spesso un racconto anche un po' pittoresco di quello che avviene all'interno poi del tempio si si tiene esaltare le cose positive tipo qua quando muore qualcuno si girano le ciabatte si girano così ma ogni volta che le ho sentito dire questa cosa ho sofferto perché la morte cioè chi è che è morto dei nostri per cui abbiamo girato le ciabatte tu c'eri quando è morto la prima persona che è morta gli è stata tu sai se qualcuno ha pensato ah gli giro le ciabatte poiché nella cultura giapponese sia una cosa che si faccia non ho dubbi ed è una cosa ma rispetto a Fudenji ha un suo respiro che è molto difficile parlarne se non ci sei dentro questo è quindi mi auguro che possiate venire a visitarlo ma qualunque tipo di informazione potrete avere dal web tra l'altro avete informazioni scarse perché il nostro sito volutamente dal maestro ti scoraggia cioè c'è un int o una cosa che ti ux e proprio html 1.0 sì sì ah quindi è proprio lui che non vuole beh ma è giusto cioè non deve essere una cosa marchettare cioè devi volerlo veramente cioè devi cliccare devi trovare il link giusto ma infatti perché non si leggono i test bianco su bianco genio assoluto no lì non so quanta volontà ci sia o quanta negligenza rispetto a questo forse sarebbe il caso anche noi di di farlo per me ad esempio venire oggi è stata un po' una sfida ma se una persona comunque dei cento che vedranno questa cosa dice aspetta che vado a Fudenji per me cento è una vittoria anche no minimo tre mili se poi non verrà nessuno volontariamente sarà una vittoria ancora più grande perché avrò scoraggiato persone che dicevano aspetta i video con i monaci hanno avuto molto successo sono due sui 30 mila la nostra fanbase i monaci li ama e anzi quando ho fatto poi il video su monaci surfers in realtà poi in privato mi hanno scritto in tanti davide allora cosa ne pensi dovrei andare cioè ha incuriosito tantissimo questa cosa perché come dicevi tu è un monastero che parte proprio con l'idea di essere un monastero zen quindi non è un riadattamento di un monastero cristiano ed è anche se vuoi una scuola poco conosciuta cioè nel senso che quando ero sono venuto da te io ho una sorella ad esempio buddista che segue la non so come definirla Sokagakai esatto ma che memoria che c'hai la Sokagakai poi vedendo mia sorella io non la seguirò mai però adesso meno male che non mi ascolta no scherzo Sonia ciao però dico ci sono altre scuole ben più famose che si sponsorizzano tanto di più di voi voi siete una roba che funziona quasi col passaparola cioè non se ne parla tanto tra l'altro siete anche vestiti di nero quindi un atteggiamento se vuoi anche da fuori poco alla moda cioè adesso anche tu sei vestito di nero noi siamo sempre vestiti di nero si lamentano anche nei commenti però come dici tu la gente gli occidentali vanno via dal cristianesimo vengono da te e siete neri pure voi dice no io voglio vederne uno rosso voglio vedere bianco sai bianco nell'immaginario new age devi essere bianco tutto puro invece voi siete neri il bastone poi il bastone non si dà veramente il bastone è una roba che poi scoprirete dentro lì però non cioè non si sa tanto della vostra scuola come probabilmente volutamente è qualcosa a cui ci devi arrivare per circostanze della vita non siete molto predisposti e forse oggi è un'eccezione quella di averti qua però dici ad esempio che cosa differenzia la vostra scuola rispetto appunto al buddismo tibetano che più non c'è nessuna non c'è nessuna scuola cioè c'è un luogo fatto da persone che stanno invecchiando lì e altre che stanno crescendo lì questa è la prima cosa cioè il buddismo zen il buddismo in generale è migrato ha influenzato ha ricevuto dall'India la Cina al Giappone l'Italia cioè l'Occidente è andato in America prima ma arrivando qui è arrivato perché un uomo ha una sua storia particolare e quella è la prima cosa che si incontra non sono concetti buddisti buttati lì bisogna incontrare la persona che ha voluto quel luogo e per me è un esercizio quotidiano quello di stare in quel luogo che è frequentato da altre persone e che non è una mia sposare il buddismo in assoluto è un mio accettare di vivere e soffrire con altre persone nel mio caso c'è lì mia madre se non ci fosse mia madre magari non avrei mai fatto quella scelta trovo strano e diffido di chi viene e dice voglio fare la meditazione zen perché? non hai niente da fare ma guarda anche il Dalai Lama lo dico sempre quando sono andato a vederlo quando faceva ancora i tour lui ha fatto due ore di meraviglioso speech poi alla fine fa comunque raga rimanete cristiani raga ha detto si è bello ha detto raga rimanete cristiani non serve che diventate come noi c'è già tutto nella vostra religione e tu vedi tutti quelli che sai li carica mille la compassione rimanete cristiani tutti scendono è interessante anche tu hai citato tre volte il cristianesimo oggi più volte forse ho citato maestro Guareschi lo posso citare ancora posso raccontare perché com'è che lui perché c'è Fudenji tu te l'hanno raccontato cioè cosa perché c'è perché c'è cioè questo personaggio che è il maestro Guareschi che è ancora a Fudenji si può venire a incontrarlo ha 70 anni e fu come prima dicevo la prima cintura nera di Judo lui vinse i campionati italiani di Judo i suoi lo scoprirono dai giornali non disse niente andò a Roma con la borsa vinse tornò indietro uno di queste occasioni incontrò un un maestro di Judo di Milano che si chiamava Cesare Barioli che la sala dove abbiamo praticato Taiko è intitolata lui abbiamo una pietra nel giardino nostro in sua memoria e è come se fosse il fondatore chi ha davvero mosso e ha fatto nascere Fudenji perché passò dal maestro Guareschi sul podio dicendo sei contento che hai vinto e mi scoprì chi era quello lì e scoprì che era un maestro di Judo che aveva una scuola molto molto impegnativa che però non aderiva a nessuna federazione però facevano Judo otto volte alla settimana la domenica due sessioni adulti che si davano un sacco di botte sulla materassina che era un luogo che io ho avuto la fortuna di vedere quando ero bambino perché anche mio padre frequentò Judo dalla scuola del maestro Barioli e il maestro Guareschi una delle prime apparizioni anzi la prima apparizione dello Zen fu il maestro Deshimaru fu invitato dal maestro Barioli perché il maestro Barioli non studiava il Judo tipo le tecniche del Judo come magari molte scuole di arti marziali fanno oggi ma per lui voleva dire conoscere la cultura giapponese e il Budo che è la via marziale che ha tutte quindi le diverse che è la via della spada la via del Judo del Karate eccetera ha una cosa in comune con una mente vuota con lo Zazen con la meditazione prima c'è quello quell'attitudine prima di ogni tecnica e quindi il maestro Barioli invitò un monaco Zen il maestro Deshimaru che ad oggi è considerato il primo patriarca d'Europa ma che allora era un pirata che non finì i suoi studi lui non non ricevette il come si dice l'attestato da monaco si stufa era annoiato dallo Zen in Giappone andò a Parigi perché era molto più divertente iniziò e un continente intero lo seguì e ad oggi la Sotoshu riconosce nel maestro Deshimaru il vero patriarca d'Europa e ha la carica più alta che si può avere e il maestro Guareschi vide il maestro Deshimaru e Barioli notò questo incontro e alla fine della visita del maestro Deshimaru andò da Barioli andò da Guareschi e gli disse il maestro Deshimaru ha dimenticato questo abiro portagliela a Parigi e lì il maestro Guareschi andò a Parigi per la prima volta frequentò l'ambiente dello Zen l'ha vestito sempre di bianco tutti erano vestiti di nero e lui era vestito di bianco come dicevi prima per il judo per il judo andava vestito da judo lui a fare i ritiri eccetera e poi da lì naturalmente diventò un e decise di fare Fudenji ma lui prima di Fudenji dieci anni prima fondò una scuola di judo lì a Fidenza che è ancora in attività e ha anche un'altra sede a Parma e un altro suo allievo ha aperto una scuola di karate e quindi a Fidenza tanti non sono mai venuti a Fudenji però il maestro Guareschi c'è uno su due che è almeno un parente che ha fatto da bambino conosce qualcuno che ha fatto arti marziali con lui e quindi la cosa della sfida che localmente e all'inizio lui era visto un matto a Fidenza negli anni settanta quando si cioè Fidenza è un classico comune pieno di bar dove la gente in dialetto dice cufaculle io purtroppo non posseggo nessun dialetto ma un po' quello lo capisco e lui in quell'ambiente continuò imperterrito quindi tutti i vestiti di nero quel matto tutto pelato tutto così e lui continuò continuò e il suo più grande non suo ma della comunità segno di risultato raggiunto fu la benemerenza civica che quest'uomo ricevette sia dal comune di Salso Maggiore che di Fidenza segno che localmente veniva riconosciuto un qualcosa che si stava promuovendo di buono per il per la zona non qualcosa ci dice anche tua mamma che quando girate per fare la lemosina va la vu no il contrario cioè siete ben visti oramai vi conoscono perché qualcuno da casa si domanderà sì ok il giardino ok quello ma i soldi dove c'è qualcuno a casa adesso no nel senso chi è che ha tempo di guardare il passato io sono no ma non siamo in diretta però mi piace farste battuto questo è poi tv anni 90 da casa qualcuno si domanda via le telefonate qualcuno si domanda sì ma i soldi dove li trovate e tua mamma ce l'ha spiegato e dove li trovano a Sasso Maggiore tutte le esatto ovviamente quando noi facciamo la questua quelle monettine e pasticcini e pezzi di pane e focaccia di Zalafi che saluto il nostro panettiere di fiducia e il desirè è quello che ci dà se facciamo finta di essere nella diretta degli anni 90 saluto anche i miei genitori che ci stanno ascoltando ovviamente quella è una cosa simbolica che è un grandissimo sforzo che nella pratica monastica è previsto ad esempio in Giappone dove sono andato è una volta al mese quindi non è quella lì che prendete i veri soldi cioè sono donazioni infatti quella è solo una fatica cioè non paga neanche la benzina però simbolicamente si fa cultura e si dà la possibilità alle persone di coltivare la generosità quindi il gesto simbolico di offrire qualcosa e che anche nella cultura musulmana ad esempio è molto è importantissimo e non so se hanno una volta al mese in cui devono fare questo e non hanno l'occasione magari di farlo per il tipo di società in cui vivono e quando vedono noi è facile che siano loro ad allungare la mano oltre che al noi giriamo con una ciotola una borsa e una campanella e recitiamo e facciamo magari una zona di solito del centro che è Salso, Fidenza o Parma e l'unica cosa che dobbiamo cercare di fare è di non saltare nessuna attività cioè attività inteso come negozi ci mettiamo davanti recitiamo un sutra suonando la campana e poi ci spostiamo ringraziando sempre inchinandoci anche dove sai che quel fruttivendolo lì per esempio proprio non ti gode e non vuoi saperne e dici ma chi cioè non vai via e c'è il cane ti manda il cane però tu devi nella tua pratica fermarti anche lì anche se sai già che e ti assicuri la tua mamma l'ha raccontata quella volta che proprio che gli è capitato diceva sai che andate a turno poi lei aveva già visto che c'era sto bar sì perché tu poi dici a me tocca lo capisci prima dici ah cazzo quel bar lì con tre che evidente uomini in stato di semi ebrezza dici figurati devo andare a cantare davanti a sti tre signor ottico ed è arrivata lei e stava proprio per saltare poi si è ricordata invece il precetto che dice no mai saltare niente e lei è un insegnamento pazzesco questo in tutte le cose della vita quando pensi che tu venga allocato ad una condizione sgradevole non sempre però spesso ci vai esatto e ci vai dritto ottieni delle cose inaspettate infatti lei si siede arriva lì inizia a cantare e sente da dentro questa bambina che grida mamma sono arrivati i monaci e scegli dalla donazione più grossa questa bimba bellissima che da dietro aveva superato i tre ubriaconi lì fuori il valore che fosse una bambina magari non della donazione più grossa no no ma anche proprio no scherzo questo l'ho aggiunto io no quello è una in realtà il tempio vive di offerte dagli inizi dall'84 e le offerte sono molte di più quelle delle persone che vengono e che riceviamo rispetto a quelle che poi mettono la monetina nella ciotola che però ha tutto un valore una ricchezza importante nella società appunto e perché le persone possano abbiano l'occasione di venire a conoscenza del tempio magari siamo purtroppo adesso non lo stiamo più praticando da quando c'è stata la pandemia perché ci sono nati tutti dei problemi poi noi siamo in pochi è aumentato il lavoro abbiamo un frutteto un uliveto che prima non c'era che ci richiede più lavoro quindi anche per mettersi di fermare i lavori per andare adesso non lo stiamo facendo ma in generale è un'occasione no di come il web ma che vale di cioè respirano vedono il vestito chiedono quindi noi abbiamo un cappello che ti esclude la vista però poi se arriva uno a dire scusa ma chi siete devi avere la flessibilità di magari alzare un attimo per vedere se la faccia che c'è sotto gli piace e dirgli siamo di Fudenji con che faccia con che tono è tutto una una cioè non c'è niente di scontato a Fudenji non c'è niente di scontato ma da nessuna parte c'è niente di scontato però quando rappresenti qualcosa quando quello che fai che è ad esempio il vostro lavoro cioè non so neanche che lavoro facciate il vostro hobby ma anche il vostro lavoro è la problematicità che si crea ogni giorno nel nella novità cioè la novità è spiazzante e nel nel registro religioso quella novità quella come dire impossibilità di prevedere è data anche da dei micro segni di situazioni cioè tutto è è come al radar cioè lo vedi al microscopio cioè quando arriva una persona che vuole fare una visita come si toglie le scarpe puoi già sentire che magari è una persona un po' invadente che si aspetta già di sapere dove sta andando tutto ha un ritmo tutto è un luogo come Fudenji te lo può mettere in modo chiaro questa verità te la può far vedere ma è una verità che ci tocca a tutti direttamente quindi il vostro esercizio sentivo che tu quando ti svegli prima cosa che fai è niente non fai niente come prima cosa giusto dico così così la gente pensa no no io purtroppo quando mi sveglio non fai niente no io medito tutte le mattine quello dicevo quello niente lì prima di meditare guardo il cellulare ah ok ok perché la sveglia è suonata da lì esatto quindi lo prendi in mano e questo oggetto dalle mille possibilità mi rapisce mi risucchia il cervello tipo che film è videodrome quello lì entro dentro nel cellulare poi mi risputa fuori dopo venti minuti quello purtroppo ci siamo cioè purtroppo non purtroppo però è una cosa interessante innanzitutto rendersi conto della potenza di quel mezzo di altri mezzi che sono quotidianamente sotto la nostra una delle ragioni per cui continuiamo a fare il bazar senza guadagnarci proprio niente quello che stiamo parlando senza che nessuno stia guardando il tele ma tu scherzi allora io ho fatto il calcolo io non guardo il cellulare quando dormo quando faccio l'amore quando faccio il bazar e quando vado a fare i massaggi tailandesi o ayurvedici basta il resto quando giochi a calcio oramai non gioco più a calcio male male io quando fotografo le donne nude non guardo il cellulare per tre ore guarda che hai di fiamma vuoi spostarti Elisabetta se ti senti no scherzo ma dai posso fare delle battute ogni tanto un po' di ironia no invece voglio chiederti ma sai che no dimmi no c'era un posto a Brescia molto interessante a San Faustino una come si chiama distilleria ma no la distilleria no è un bar però non è il solito bar cioè tu non puoi andare lì chiedere una coca cola c'era un certo personaggio che si chiama che spero sia ancora vivo Franco che fumava una centos dopo l'altra con una voce che aveva solo whisky cognac armagnac a gradazione piena americani giapponesi e scozzesi o irlandesi cosa sono gli whisky più tutte e due ma in realtà più scozzese però li fanno buoni anche in Irlanda adesso che ti in realtà è nato in Irlanda sì ti versava il whisky che era 63 64 58 gradi e poi con l'acqua te lo apriva e quindi portava a una gradazione minore e mentre tu gustavi questa cosa buonissima ti spiegava come mai non puoi comprare al supermercato un buon whisky quelle sono tutte bottiglie numerate che quando finisce quella produzione non esiste più quel whisky e finito di bere ti faceva scrollare fortissimo il bicchiere e metterci il muso dentro per sentire tutto l'aroma e lui aveva foto di donne nude che erano tutte clienti che venivano che dopo avevano usato sì e io ricordo questo posto che per quanto poi erano dei nudi in quel contesto con quel tipo di ricerca e di qualità stavano bene cioè erano perfetti quindi immagino che quando si dice a lui fa foto a donne nude ci sia una ricerca molto molto profonda perché ho anche se con poche parole avuto l'occasione di incontrarti è un vero artista non c'è dubbio su questo però mentre parlavi mi è venuto in mente ti devo fare questa domanda scusami ma è obbligatorio c'è una disciplina sessuale che va tenuta a monastero questa è la cosa più interessante che mi hai chiesto dopo due ore sono già passate due ore quasi due ore mi spiace allora non posso rispondere devo andare non posso rispondere so che interessa a tutti è un argomento interessante perché io devo fare l'esempio prima della situazione in Giappone rispetto al nostro ordine per capire poi la nostra nel senso che la scuola l'ordine zen sotto non so se circa 200 300 anni fa il voto della castità era presente nell'ordine monastico a cui appartengo e non nascevano più preti dei decine di migliaia di templi di cui parlavo prima c'era il problema di non avere chi poi li mandasse avanti e le persone continuano a morire a chiedere quindi la società l'ordine religioso ha variato ha virato e ha deciso che ci fosse la possibilità non la possibilità ma è diventato un obbligo di sposarsi avere un erede maschio che sia il prossimo abate del tempio il primo genito della mia generazione tutti sono hanno già il il diciamo destino scritto su cosa faranno e questo per me ho conosciuto monaci giapponesi che riconoscono che è una grande fortuna per quanto non volevano minimamente farlo ci sono storie di ragazzi molto interessanti da sentire perché non è l'italiano che dice volevo fare quello che è il giapponese che dentro di sé ha un servizio diverso rispetto a quello che lo circonda che comunque oggi non fa volentieri il monaco cioè quando noi pensiamo al monastero del cioè voi tre fate meditazione non so se la fate con molto più vigore e ricerca di quella che mediamente c'è nei monasteri in Giappone ad esempio dove c'è un'esigenza sociale di avere i monaci quindi non è che loro voglio fare il monaco no c'è bisogno che tu figlio mio faccia il monaco questo è quindi nel loro caso è diventato avere una moglie e quindi il voto è diventato da zero a una perché comunque poi la moglie non è che poi la cambi diventa una pedina fondamentale per il continuo del tempio è una persona che aiuta a ricevere gli ospiti aiuta a garantire è il braccio destro dell'abate che ha il potere sacramentale eccetera ma che poi se si assenta per qualunque motivo è la moglie che ha un'ordinazione laica ma particolare che le consente anche di avere quasi poteri sacramentali o comunque di avere la possibilità di accogliere e dare conforto ai fedeli per cui la vita di un monaco che è abate di un tempio è essere pronto a ricevere perché la morte non ti avvisa e quindi le persone poi arrivano in qualunque momento e questi templi sono gestiti come dalla famiglia c'è il monaco con la moglie e il figlio viene mandato di solito a scuola e poi quando dopo l'università spesso ma non è sempre così sa che andrà a fare la sua formazione monastica nel nostro caso quindi in occidente arriviamo alla risposta c'è il rischio di utilizzare il fatto che non ci sia la castità per fare un po' quello che si vuole in quel senso e quindi c'è tutta la storia precisa di Fudenji in cui ad esempio io ho fatto un fidanzamento ufficiale con una ragazza a Fudenji invitando la famiglia e prendendo un impegno davanti alla comunità a cui appartengo e alla sua famiglia e nella nostra unione c'è anche un'unione di forze rispetto a io credo molto nei matrimoni combinati ancora oggi questo non è stato combinato perché ci siamo incontrati noi in discoteca in discoteca dov'è che un monaco incontra la propria fidanzata nella discoteca a Pezzo eravate drogati io ero molto drogato perché fu l'anno in cui decisi di lasciare tutto Fudenji basta e dissi al maestro maestro mi manca bere la birra con gli amici anche se ogni tanto in segreto lo faccio lo voglio fare di più cioè voglio che diventi la mia pratica quotidiana e quindi non me la sento più di stare qui e ho bisogno di un periodo di e lui mi ha detto va bene vai fuori per tre mesi così e io stetti fuori per un anno dopo tre mesi tornai suonando per suonare il taiko perché suonavo già il taiko però mi ero fatto crescere anche un ciuffo tipo Cristiano Ronaldo con i modelli molto originali che i calciatori tutti hanno come prima avevano tutti l'elastico tutti così anch'io ero così e quest'anno poi tornai a fare le cose più stupide ma con più vigore perché grazie alle tre anni di monastero avevo molta più spinta per fare le cose quindi le cose stupide poi le ho fatte ancora di più ero stanco molto stanco e andai nella discoteca più commerciale che proprio avevo giurato che non sarei mai entrato in questa discoteca e però con un amico un po' un po' storditi dall'alcol e da altre cose decidemmo di andare e così vedi una ragazza che continuai a guardare per circa dieci secondi e anche lei ovviamente mi guardò per cui ci troviamo poi a fare colazione io il mio amico lei la sua amica in cui io tirai fuori i discorsi più maschilisti ma no maschilista è proprio più come dire la donna non deve neanche poter pensare di che un lavoro perché cioè la donna deve solo sostenere l'uomo che è lui che deve lavorare dei discorsi così proprio che oggi mi posseduto da Orban esatto oggi mi rinchiuderebbero un po' ubriaco un po' così mi sembrava simpatico dire queste cose che non tutte penso e poi finché la sua amica non prese la mia attuale fidanzata per mano portandola via dicendo questo è matto come perché mi hai portato qua se non che questa ragazza invece mi mi ebbe occasione poi ci di dire che erano stata molto colpita dai miei discorsi e che lei come donna le sarebbe piaciuto prendersi cura di un uomo e dei figli e che se c'era la possibilità anche di non lavorare che il lavoro di madre e moglie per come lei l'aveva imparato dalla madre era una cosa che poteva darle una felicità e che quindi così grazie a questa cosa in cui esagerai grazie all'alcol la birra la musica tecno esatto e poi da lì io le dissi guarda che io vado in monastero perché comunque avevo raggiunto veramente il limite avevo capito che era la la mia la mia storia e quindi mi presentai rasato con una pizza alle cipolle non so perché la pizza alle cipolle ma è andato di fatto fu proprio una pizza alle cipolle forse perché volevo anche con l'odore scacciarla via e lei dissi addio addio lei dopo pochi giorni si presentò al tempio durante un ritiro dicendo sono venuto a salutare il mio amico Alessandro trovò una monaca tra le più severe che disse adesso non può vai via e lei fu mandata via tornò tornò dicendo l'altro giorno cercavo il mio amico Alessandro ma non fu possibile incontrarlo non è che oggi c'è l'occasione di incontrarlo e quindi iniziò a venire al tempio un po' sicuramente attratto da me ma in realtà incontrò un qualcosa che la intrigò e che tuttora la intriga per cui sono molto fiero di dire che ad oggi oltre a suonare i taiko assistermi nella scuola di tamburi giapponesi aiuta il tempio si occupa della contabilità del tempio di rispondere alla segreteria del tempio quindi anche la vostra persona che fissa gli appuntamenti ha parlato con lei perché ovviamente è anche la mia segretaria personale per qualunque cosa mi riguardi e io mi sento in questo fortunato e allo stesso tempo consiglio a chiunque di trovare una se c'è la possibilità che la propria relazione non sia figlia solo di un momento in cui dici quella mi piace ma che sia ti accorgi subito se si può costruire qualcosa che aiuta altri che è una cosa che quella per me ancora oggi è l'unione più forte che si può avere perché tu non ti puoi neanche in quel caso escludere dicendo però io la amo senza verificare che la tua gente alle tue persone sia una persona gradita cosa può fare questa persona io che vivo in una comunità che non riguarda non è la mia casa ma è la casa di tanti e deve essere la casa di tutti è fondamentale che la persona che sta al mio fianco sia una persona che è predisposta ad accogliere tutte queste persone e a sentire anche lei di cosa c'è bisogno e quindi non è una regola che il monaco zen italiano ha una fidanzata che deve conoscere in discoteca che deve essere ubriaco quando fa discoteca sarebbe bello ovviamente ma è una regola che riguarda me la mia la mia serietà che davanti alla comunità prendo una donna come fidanzata e futura moglie e di conseguenza vivo con questa non è più è come dicevo del luogo che non è più separato dal monaco la figura femminile nel mio caso è diventata un sostegno primario rispetto alla vita e lei sa che poi io devo fare altri nove mesi in Giappone dove non ci vedremo sa che ci sono i momenti in cui quando e che parti allora dovevo partire a novembre ma ci sono già altri due in Giappone dei nostri quindi a novembre andrò solo a fare le due cerimonie nei due templi di cui parlavo prima i tre mesi probabilmente li farò l'anno seguente l'anno successivo e di solito faccio cioè di solito i periodi vanno fatti di tre mesi in tre mesi ma si possono fare anche più lunghi ad esempio Nicolas col monaco argentino che forse ricordi lui adesso in Giappone starà in Giappone sei mesi sei mesi quindi mi interessa comunque almeno a voi che non c'è una regola che è prima delle persone che la vivono cioè nel senso la regola mia è dovuta da Fudenji e dagli equilibri di Fudenji e dalla situazione in cui ho incontrato ad esempio nel caso della domanda sulla moglie Elisabetta piuttosto che dalla la scuola di Taiko non sono regole che possono essere applicabili a altre scuole buddiste o altri tempi buddiste e zen sono la storia di Fudenji interessante perché non so come dire sia dal racconto che hai fatto di tua mamma quando hai detto che quando non sei andata a scuola manco sei arrabbiata o piuttosto che questo rapporto di cui stai parlando che è sui generis per la storia di un monaco normale invece si inserisce io l'ho vissuto il vostro tempo c'è un tempo dove la regola c'è cioè nel senso devi camminare in una determinata maniera devi muoverti devi inchinarti a quello poi fai quell'altro tutte e due le cose assieme non so come dire cioè faccio fatica a capire come si riesca a essere così liberi come siete voi cioè comunicare questo senso di possibilità infinita ma allenandosi tutti i giorni a vivere in una in una dottrina che caspita è molto organizzata molto sequenziale cioè uno si immagina che te lo dico uno si immagina che se uno vive come vivete voi che vi alzate a quell'ora fate tutti i giorni le stesse cose nella stessa maniera eccetera poi uno dice poi neanche nella vita normale divento così noioso cioè divento ripetitivo invece scopriamo che è proprio l'opposto cioè si diventa prima hai detto una frase che è passata volante ma molto interessante quando hai detto io dopo tre mesi di monastero avevo una carica pazzesca per poter fare le peggio cose peggio ancora di come avrei potuto farle se non fosse andato in monastero cioè è quasi come se una quotidianità fatta di regole di ritmi così serrati così chiusi così organizzati caricasse l'essere umano di un'energia che gli permettesse di acquisire più consapevolezza nel gestire l'imprevedibile se non puoi fare il male non ci farà neanche il bene comunque nel senso che come dicevamo prima quanto sono mischiati il bene e il male sono indivisibili c'è una spinta cioè la via di mezzo come la intendo come l'ho compresa del Buddha del Buddha Dharma non è tanto non andare né a destra né a sinistra ma è andare tutto di là e renderti conto in un istante che la direzione è tutta di là e in un istante virare di 180 gradi la direzione quella è una via di mezzo che mi piace e che sicuramente nello zen è molto è vissuta attraverso libri testi ma soprattutto dalla presenza se uno incontra una persona come poteva essere il maestro Guareschi si trova davanti a questa lui è capace magari di piangere di ridere di arrabbiarsi in tre secondi cioè un secondo poi dopo è lì e poi dopo è là e questa sua capacità è sicuramente figlia di una libertà in cui tutto è possibile e anche in Fudenji e nella nella situazione che vivo io ogni secondo ti accorgi che veramente tutto è possibile cioè io mi sono trovato Onolulu Onolulu arrivo guazzabuglio moderno e io gli dissi al mio maestro cioè perché ho questa fortuna che altri parlando tra l'altro pensando direttamente a persone vicine così della comunità non hanno non hanno avuto cioè perché che poi io Onolulu sono stato tre giorni in una stanza a suonare e basta quindi non ho neanche visto l'oceano però comunque ero Onolulu e lui mi disse non ti stupire perché il taiko apre le porte e farai altre cose molto più io ho assistito a una vostra performance da brivido e ho anche mi sono anche esibito poi dopo il tuo corso migliore tra tutti gli studenti ovviamente che erano presenti in quella sala e mi ha colpito molto lo raccontavo a loro beh la tua capacità di la vostra capacità di di divulgare questo strumento musicale è anche limitante proprio questo medium energetico e una cosa che mi ha colpito molto che le raccontavo Giovanni l'altra volta dicevo che quando tu insistevi molto su il gesto allora è un tamburo fallo vedere è un tamburone giapponese e vabbè a parte la maestria con cui sono il valore la preziosità di questi oggetti me l'hai raccontato bene quando ero lì e mi dicevi quanto fosse importante la coreografia cioè tu dicevi guarda io non è tanto il suono il suono io posso farlo in mille modi ma posso è il gesto posso avere gesti differenti e fanno parte anche loro della della performance stiamo vedendo adesso su youtube nel nostro caso proprio per l'esempio che è partito in modo casuale c'erano tanti taiko e una persona e ci sono ovviamente interpreti veramente bravi che si cimentano nel suonare tanti taiko a velocità supersoniche ma poi c'è un altro sapore del kumidaiko che è il gruppo di taiko che poi è quello che proponiamo quando viene ad esempio un gruppo di manager per formazione team building e cose simili ho anche gruppi di bambini ragazzi nei nostri campeggi quando ci si mette in cerchio e si cerca di suonare insieme è innanzitutto coinvolto tutto il corpo ma non solo il tuo corpo che per dare un colpo davvero parte dai piedi non lascia niente fuori ma il corpo dell'insieme delle persone che fanno il corpo del gruppo di taiko che si quindi è molto molto interessante come ogni volta sia un'occasione per me che mi sono appassionato a questo strumento di vedere come reagisce un gruppo di neofiti che non ha mai usato i baci i bastoni prima e che si trova lì e subito diventa una cosa seria in cui si ride tanto ci si diverte ma in cui c'è un davvero piacere di provare a far suonare quel tamburo quei 10 o 15 tamburi come se se sono uno solo dom e quella cosa si comunica non vale neanche la pena parlarne spero c'è bisogno di viverla l'esperienza noi la domenica adesso la stiamo gestendo per chiunque passa di lì può provare a suonare il taiko ecco a proposito la domenica come si fa e in che modo si può interagire con la vostra struttura non si può state a casa vostra non dovete a farmi pulire se avete tempo da perdere potete venire alla domenica come prima volta alla mattina alle 10 c'è la prima seduta di meditazione quindi potete arrivare cancelli si aprono alle 9 e mezza e poi lì è previsto una breve meditazione seduta alternata da una meditazione camminata di solito i nostri periodi sono di 40 minuti 40 minuti è il tempo di un incenso che brucia di questa misura che con l'occasione do a Davide per questa occasione che ci ha dato oggi insieme a Giovanni e Mario sono giusti i nomi eccellente questi voi potete anche usarli ti ringrazio davvero tanto un bastoncino di quelli dura 40 minuti quindi il periodo della nostra scuola in cui si è seduti a gambe incrociate in silenzio è di 40 minuti alla domenica noi è così giustamente facciamo un periodo più breve alla domenica perché 40 minuti possono essere comunque impegnativi anche perché nella nostra scuola la ricerca della postura è molto dettagliata e a differenza di altre scuole buddiste c'è molta attenzione a come si è seduti su quel cuscino molta e però ovviamente si va incontro anche a persone che volessero provare che magari non hanno la possibilità di incrociare le gambe e quindi c'è la possibilità di partecipare con sgabelli insomma in base non esclude nessuno ma per chi ha la possibilità poi il periodo si cerca di stare fermi per 40 minuti e la domenica facciamo dimezzato periodo di 20 alternato alla meditazione camminata con poi altri 10 minuti seduti prima di assistere al rito domenicale che poi nel nostro caso è un rito suonato col tamburo propiziatorio che non tutti i tempi in Giappone fanno ma è proprio della nostra scuola che prevede all'interno questo rito che noi facciamo la domenica quindi non il rito propiziatorio del soto zen ma quello che noi facciamo comprende la parte con il il sutra col tamburo e ad esempio la lettura domenicale che è una cosa che nel soto zen non esiste cioè in modici giapponesi viene letto il libro in cui insomma si è in India e si è l'esempio del beato che dimorava presso il parco nell'arena dico che stava lì e arrivò una persona che gli chiese ma tu perché sei lì così e il beato gli rispose perché sì lettura domenicale con ovviamente dei contenuti ma a proposito di beato all'ombra dell'antico maniero del dei pallavicino sorge Fudengi fra quelle colline che avevano visto il beato Orlando dei Medici singolare figura di asceta fra i boschi fermo su una gamba sola a rimirare il sole di giorno e la luna di notte in un lungo solitario silenzio dal 1360 e per 26 anni vestito di un solo abito lì sorge il monastero questa è la dimostrazione che il sito scoraggiava ma poi c'è stata una sincera ricerca che vi ha fatto leggere poi cosa c'è scritto cioè l'avete scoperto dopo che lì c'era questa e penso che c'è stato questo mistico cristiano penso che sia stato scoperto successivamente ma fu poi una delle cose ispirative perché poi ogni tempio c'è una madre terra che precede la costruzione del tempio quindi lui diventa il protettore di quel posto il Beato Orlando che stette su una gamba sola è un'ispirazione che abbiamo siamo molto fortunati perché poi verificherò ma penso che sia stato scoperto poco dopo aver acquistato o magari è stata la causa per cui Maestro Goreschi ha detto lì e non là però c'erano altre cose per cui è stato valutato quel luogo come quello ideale per costruire Fudenji ultima cosa ti voglio chiedere che tutti chiedono perché non avete i capelli cioè perché chi non ha i capelli se ce li ha perché vi razzate i capelli bellissimi che taglio ogni cinque giorni cioè io lo so però faccio finta di non sapere tu lo sai non me lo dici ti prego se lo sai dimmelo non lo so perché secondo me simboleggia un po' il minimalismo cioè la necessità di non attaccarsi alla nostra personalità cioè il capello vedete io ce li ho guardate che belli li posso acconciare in mille maniere posso abbellirmi farmi bello eccetera invece quello è un atto di rinuncia alla mia estetica più vana la butto lì è così alla vanità alla vanità sicuramente sono quando mi sveglio il mattino in quel momento in cui dobbiamo scegliere che pettinatura portare un po' più libero di davide rispetto cioè tu sicuramente hai un problema in più di me rispetto ai problemi che già abbiamo quotidianamente dove dobbiamo decidere su questo io intanto prendo tempo infatti è la fatica decisionale si vestiva sempre uguale aveva tutti vestiti tutti uguali proprio per quello lì poi non c'è un solo motivo come dice ad esempio nel nostro caso si cerca di farlo ogni cinque giorni ma io venendo qui poi l'ho fatto oggi anche se non è il giorno in cui va fatto per cui ci sono delle situazioni in cui di solito ad esempio chiedo che si possano portare fino a un centimetro se uno ha bisogno di fare cose rappresentative ma poi i monaci si in Giappone poi ci sono anche tanti che non si radono più la testa in occidente che hanno l'ordinazione monastica e chi è che gli dice non sei un monaco perché non ti radi la testa nel nostro caso rimane una una disciplina che si tiene quindi i monaci residenti a Fudengi ogni cinque giorni si radono ed è una cosa che andrebbe fatta in due quindi io rado te poi tu rado di me ma noi sempre per motivi di accelerare ognuno la fa da sé in questo periodo però è interessante quello che ci può essere dietro anche solo non so rasare la testa cioè uno non si va contro pelo non si fa un po' a caso che sono tutte delle magari accortezze che ti liberano ma tu hai qualche tecnica che puoi spiegare a Giovanni ma si fa con l'ametta quindi no con il rasoio elettrico no con l'ametta però non contro pelo come diciamo quindi qua si va in giù qua a sinistra qua a destra e qua in e poi volevo chiederti hai qualche consiglio da darmi per fare meglio questo programma cioè ti dico questo programma è bellissimo forse invitare ospiti più interessanti di me a parte quello non lo so perché il luogo è molto bello e voi siete persone brillanti mi spiace perché mi ero promesso di ascoltarvi molto di più di quanto avrei parlato ma tu sei tutto il giorno in silenzio in monastero vieni qua ti sfochi quando vuoi ho detto un sacco di cose da imparare da quei tre poi in realtà so che insomma questa è la prova che chi ospite parla e cerco di dire quante più cose possibili cercando di creare più confusione possibile in chi mi ascolta sai come si dice oggi ditecelo qua sotto nei commenti se la confusione è sufficiente qua sotto non ho niente di interessante a proposito qua sotto no però quella specie di bavaglino che cos'è perché quando sono venuto là ce l'hai spiegato perché avete sulla bavaglino quella specie come si chiama raccoso se ti viene fame all'improvviso esatto raccoso l'abito della compassione diciamo che simbolicamente sono pezze immonde usate per curare le brosi maestro femminile le cose peggiori cioè più sporche e vengono lavate tinte e cucite insieme per creare l'abito con cui gli asceti dell'India ai tempi di Buddha e tuttora noi monaci facciamo la meditazione questa rispetta lo schema di quella toga di cui stavo parlando in versione rimpicciolita quindi è un abito che in realtà copre tutto il corpo lasciando la parte la spalla destra scoperta e poi nel caso nostro prendiamo un tessuto lo tagliamo e lo lo ricuciamo quindi però ci sono anche dei casi abbiamo dei dei chesa che è quest'abito questo era qui su quello grande il chesa che sono stati fatti anche con delle pezze usate per curare ad esempio l'attuale abate che al tempio prese fuoco in uno dei tra i primi anni ci fu questa tragedia e questa donna camminò fino a spegnersi sotto il lavandino con una tranquillità che e poi le pezze che furono usate quel mese in ospedale furono tenute e usate per cucire un chesa che abbiamo nel nostro patrimonio a Fudenci che tu fosse un paio ne hai visti una roba pazzesca poi sapendo la storia che c'era dietro vabbè ha detto vabbè ragazzi me ne vado più di così non ce n'è facciamo due ritiri all'anno sulla cucitura dell'abito e uno arriva proprio adesso che date suggerisci mi la data magari Davide viene che non ha niente da 28 28 ottobolo 1 novembre se vi avvicinate a Fudenci potete dar qualche punto sono tutti punti fatti a mano e nel caso dell'abito grande ci vuole non so quante migliaia di punti e ogni punto si torna indietro e poi si va avanti si torna indietro poi si va avanti si torna indietro ed è un altro modo di di meditare sì e su ogni punto è interessante insomma non voglio parlare di cose che vanno fatte adesso poi chiudiamo che stiamo veramente facendo tantissimo stiamo abusando anche della tua disponibilità stavo pensando mentre parlavi adesso della meditazione del cucito eccetera cosa ne pensi della moda della mindfulness cioè la mindfulness oramai soprattutto negli Stati Uniti ma anche qua in Italia è dominante che assomiglia molto alla meditazione che fate voi la Zazen praticamente quasi simile e cioè che tipo di approccio ha anche Guareschi e voi rispetto all'Occidente noi siamo l'Occidente però all'altrove rispetto al vostro monastero che tanto si sta imbevendo di queste tecniche no che tipo di riflessione fa penso che possa essere un bel segno che in Occidente ci sia una ricerca che va in quella direzione e allo stesso tempo come dicevo prima può essere rischioso nel senso che puoi avere anche qualcosa di più utile da fare nella società di rispetto alla coltivare perché spesso riguarda l'individuo che cerca qualcosa di sé e anche se non se ne accorge si fa delle idee il il modo di sedere che è l'ora di andare a sedere anche se non hai voglia lo trovo più non più elevato ma è più più accessibile più è proficuo quel modo di sedere perché non lo vuoi fare tu è il momento di farlo si fa e quando invece è una cosa che scegli tu quindi rispetto alla mindfulness se uno si disciplina e cerca di più mettere delle regole insomma su questa pratica che fa magari ha più benefici ma penso sia comunque un segno incoraggiante non voglio sminuire tra l'altro una cosa che non conosco e mi piacerebbe anche avere non so se tu poi in una no io non pratico quella ma so che oramai è praticamente diventato quasi sinonimo di meditazione è una parola molto di moda però la meditazione non piace molto dalle parti di Fudengi meditazione perché prevede un oggetto su cui meditare o qualcosa invece si parla più di contemplazione ma il termine poi è shikantaza che vuol dire che è la zazen just sitting si fermano e dicono ma voi siete monaci shaolin capitò a Milano il monaco giapponese di fianco a me mi chiese cosa dice if are we a shaolin fighter no 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 just sitting però lo disse non con tipo sono fiero di noioso scusami avrei voluto essere un monaco shaolin ma ci sediamo poi neanche con molta voglia mi è capitata sta roba dal destino ma non sono della vostra scuola al monaci shaolin c'è un punto storico in cui abbiamo in comune la figura di bodhidharma che per noi è il patriarca il primo cinese cioè chi porta dall'India alla Cina che poi nella mitologia anche giapponese è quello a cui si si dice che fu lui a inventare il tè che dalle sue palpebre cadendo nacque la pianta del tè perché lui si tagliò le palpebre perché si addormentò in meditazione restò nove anni davanti a un muro arrivò un discepolo per imparare da lui gli disse vai via questo si tagliò il braccio e gli diede il braccio allora lui disse vabbè vedo che sei molto determinato e quindi da bodhidharma è anche il da quello che so è il fondatore di Shaolin che poi è una scuola ancora considerata buddista cinese in cui ci sono questi monaci che combattenti insomma sicuramente ci saranno delle cose in comune per quanto riguarda in realtà tutte le scuole buddiste in comune hanno pochissimo cioè just sitting e poi dopo da lì però anche tu hai fatto delle cose un po' estreme quando sei andato in Giappone tipo ti hanno fatto camminare ho dei ricordi in Giappone no mi hanno lasciato fuori quando mi sono sono arrivato che è un modo comunque rituale si sa già che è così ma che è normale cioè tu bussi suoni ma quasi ti arrabbi se ti fanno entrare subito no non mi sarei arrabbiato perché niente ero stanchissimo ho suonato il legno tre volte e poi dopo lì non hai l'orologio quindi potrei dire che erano un'ora e magari erano venticinque minuti però è stato un periodo comunque lì fermo col cappello immobile e poi sentivo anche di parlare cioè c'era vita non è che tutti aspettavano e giocavano a fare però magari ridevano sentivo anche ridacchiare si stavano ridacchiando di me e poi sono andato a Nagasaki e Nagasaki ha tutta una sua storia per cui un italiano che è a Nagasaki è una cosa che incuriosisce molto il giapponese di Nagasaki perché tu Italia cioè lì mentre ero io ci fu una visita del papa non al tempio dove ero io a Nagasaki io pensavo ancora alle bombe senza sapere tutta la storia che aveva quella città che fu chiusa dal 1600 fu chiuso il Giappone nel periodo Edo dal 1600 al più o meno l'850 credo qualcosa di lì e per 250 anni viste le troppe influenze dall'occidente che passavano tutte dal sud del Giappone quindi da Nagasaki fu chiuso il Giappone e furono costruiti tanti tanti templi buddhisti di scuole diverse tra cui Kotaiji dove sono stato io e ogni abitante doveva dichiararsi fedele di uno dei templi e una volta al mese c'erano i monaci che venivano a controllare che non ci fossero segni di cristianità di cristianesimo nella tua casa ci hanno fatto il film anche con l'I am Nison no? quello discorsico io non l'ho visto ma non l'ho visto e fu uno shock per me scoprire perché c'è l'occidentale che dice il buddismo è l'unico che non ha mai fatto guerra no? c'è delle idee se uno conosce un po' la storia ci sono tanti esempi tipo questo c'è stata una persecuzione molto forte in quegli anni e tanti giapponesi sono riusciti a rimanere cristiani segretamente tramandando questo ai figli ai figli dei figli e quando è stato poi riaperto il Giappone sono venute fuori famiglie dei cristiani che avevano avuto e quindi ci sono tanti segni di simbologia buddista che hanno un'interpretazione cristiana che può essere cannonbo satsu come la Maria che tiene il bambino piuttosto che piccole croci sotto un po' nascoste che potrebbero simboleggiare il richiamo al cristianesimo e quindi l'italiano Nagasaki al giapponese medio fa un po' riflettere che era opposto di solito ma tu perché perché poi loro vedono c'è questa distanza con i giapponesi molto interessante che è una diffidenza per me molto sana il maestro parla di un fraintendimento la possibilità del fraintendimento è la cosa più ricca e fertile che anche ad esempio oggi qui abbiamo avuto cioè laddove voi pensate che avete capito una cosa che magari non era quella che io volevo dire lì c'è il massimo del nostro incontro dove ci siamo capiti al centro e con i giapponesi è così tantissimo magari avete avuto anche voi l'occasione di incontrarne ma c'è questa loro capacità nella società di mascherare le proprie che uno dice ma sono è un difetto non lo so cioè nel senso che a noi potrebbe anche essere un motivo di approfondimento per per stare insieme per stare nella società e loro vedono noi comunque come ci vedono molto fortunati cioè almeno non so se tutti ma io ho avuto dei monaci che si sono aperti mi hanno detto cioè tu te la cavi ovunque perché sei un'Italia tu vivi nella giungla uno che viene in Italia si accorge di una differenza questo è forse un altro aspetto che è intrigante di Fudenji che essendo una tradizione giapponese noi continuiamo ad avere degli incontri con il Giappone non solo riguardo appunto al fatto che siano monaci zen ma sono proprio esseri del Giapponesi che ancora portano una ricchezza che può essere molto ispirativa perché sono diversi e sono diversi e a me piace sottolineare che sono diversi che non dobbiamo essere tutti uguali perché il Giapponese è diverso l'Africano è diverso tu di Milano sei diverso e se uno non può apprezzare questo è pericoloso penso che sia la forma più alta di razzismo quella di dipingerci tutti ma tu non sai queste sono parole che io pari pari ma anche quando quella diversità ti urta soprattutto 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 starei qualche duro e mezzo no Ale vi lasciamo andare che siete a un'ora e quaranta un'ora e quaranta da casa io aspetta spero di non essermi dimenticato niente perché sono andato nel flow durante questa puntata perché poi faccio figuracce no a posto dai Ale grazie abbiamo già dato tutte le coordinate io spero di rivederti presto è stato ti è piaciuto? mi sono divertito un sacco ma adesso che chiediamo siamo qua ancora un po' insieme sì sì io fumo adesso lo fai la sera quello ho sentito però dopo la puntata per me te l'hai visto le puntate ci conosce bene porca miseria l'ho studiato sì da quella parte lì fa ridere fa ridere anche io quando la vedo che loro mi sfottono che mi dicono io chatto bevo whisky fumo di giorno meditazione divulgazione della spiritualità la sera come il tau il tau è così scusa ragazzi io giustifico sempre con quello dai tanto registriamo tutto poi vi mandiamo anche il fuori onda no scherzo grazie Alessandro Monticelli no scusami l'hai detto anche all'inizio almeno il cognome posso dirlo giusto abbiamo detto solo delle cose io no no mi piace perché io ti ho chiesto di essere in incognita e tu hai colto l'invito e hai detto chiamiamo Monticelli no 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 ti giuro a me mi hanno scritto Monticelli sul canale io non lo so dato che è un cognome pugliese di Gioia del Colle sono obbligato a dire che non è Monticelli sennò uno fa la ricerca ma l'avevo detto nel fuori onda che era pugliese comunque il cognome è Antonicelli che è un cognome ti chiedo scusa così chi non l'ha visto fino alla fine mi cercherà come Monticelli no c'è il titolo si vede che su internet proprio non ci vai mai tranne per il bazar va bene grazie grazie davvero a tutti grazie a te grazie questo è il bazar atomico ciao